Va bene direi che possiamo cominciare, buonasera a tutti, innanzitutto grazie, scusate l'attesa, parliamo stasera di sistema ferroviario, trasporti, prospettive in questo tempo di crisi dove quindi le risorse sono poche e le cose da fare sarebbero tante, lo facciamo con il responsabile trasporti del Partito Democratico Matteo Mauri, l'assessore ai trasporti del Comune di Torino Claudio Rubatti, il consigliere regionale Davide Gariglio, Giovanni Nigro che è presidente dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, Francesco Brizio che è il sindaco di Ciriè oltre che è presidente del GTT, Silvana Costato è il sindaco di Collegno e Roberta Meo il sindaco di Moncaglieri. Io partirei da questa cosa, cioè dal fatto che alla fine di quest'anno succede una cosa che per Torino è piuttosto epocale, cioè si chiudono finalmente i lavori per il passante ferroviario per cui non ci saranno più trenni che passeranno dentro Torino ma soltanto sotto e credo per la città una svolta non indifferente, c'è un'intera ferita che viene ricucita, c'è la possibilità di riguadagnare la città un pezzo di superficie, un pezzo di un asse che finora era stato, di fatto era un trincerone ferroviario, ma è soprattutto una grande opportunità per il sistema di trasporti perché Torino potrebbe replicare in piccolo nelle sue dimensioni quello che a Parigi e a Berlino, insomma in grandi metropoli europee è una realtà fondamentale, c'è un asse di trasporto cittadino ma anche metropolitano su rotaia che potrebbe veramente cambiare e non poco il modo di muoversi in città e dalla città verso l'esterno e soprattutto dall'esterno verso la città. Visto che qua abbiamo credo il massimo esperto mondiale del sistema di trasporti ferroviario metropolitano che è nigro, gli chiederei di spiegarci cosa succede insomma da fine anno e l'anno prossimo. Beh faccio finto di non aver sentito l'ultima parte. Innanzitutto buonasera a tutti e devo ringraziare Abba che ha voluto che questo dibattito si realizzasse in funzione del fatto che purtroppo per quanto riguarda i trasporti siamo abituati a leggere semplicemente gli incrementi, gli aumenti delle tariffe, l'aumento del costo dei trasporti, ad arrabbiarci quando i trasporti non funzionano e a non avere mai un quadro d'assieme per quanto concerne l'uso dei mezzi pubblici se non quando ne abbiamo bisogno e i riflessi che questi hanno sulla nostra vita, quanto tempo impieghiamo per andare a lavorare, quanto tempo impieghiamo per andare a scuola e quant'altro. Avere organizzato un dibattito a pochi mesi dall'apertura del passante ferroviario il Partito Democratico ha rimesso al centro dell'elaborazione strategica uno degli aspetti più importanti della vita delle persone e cioè le modalità con cui ci muoviamo nei momenti facili oltre che quelli difficili, come ci muoviamo per le breve distanze, come ci muoviamo per le grandi distanze. Torino chi ha qualche capello bianco e ne vedo tanti come me sa che è stata interessata negli ultimi trent'anni da molti lavori che hanno attraversato circa dodici chilometri, tanto era lunghezza del passante ferroviario. Trent'anni fa non avevamo la cognizione di come l'abbassamento del piano del ferro avrebbe avuto conseguenze, ripercussioni, su come avrebbe cambiato la vita delle persone. A partire dal 1995, 15-16 anni fa, la regione Piemonte incominciò a elaborare una prima ipotesi progettuale di sistema ferroviario metropolitano, le difficoltà erano tarietante che vennero abbandonate anche sul piano dell'elaborazione. Il 2006, con la costituzione dell'agenzia già da alcuni anni, da un paio d'anni, abbiamo ripreso il progetto e sulla base di un accordo tra, diciamo così, testardi, si è detto non molliamo il tiro fino a quando non abbiamo analizzato punto per punto quali sono le conseguenze e gli effetti che la realizzazione del passante ferroviario avrà per Torino e di come possiamo usare al meglio questa grande infrastruttura che è la più importante che Torino abbia mai avuto dall'unità d'Italia ad oggi, cioè dal 1861 ad oggi il passante ferroviario rappresenta la più grande opera infrastrutturale che si possa immaginare. Alla fine maggio l'Associazione dei Consiglieri Comunali ha fatto un convegno per fare il punto su questa situazione a cui hanno partecipato tutti gli ex sindaci, da Picco a Castellani a Novelli, Chiamparino quel giorno era occupato, ma tutti quanti gli ex sindaci hanno voluto con la loro presenza testimoniare come Torino abbia avuto il coraggio negli anni passati di fare questa scelta e di come la ricucitura della città rappresenta solo uno degli elementi con cui sul piano urbanistico molti di noi per esempio in alcuni posti quando passano non riconoscono più Torino. Vi ricordate cos'è successo per quanto riguarda l'area dell'università, del Politecnico, cioè Corso Mediterraneo? Quando bisognava attraversare oltre che ad esserci il trincerone, i treni della Fiat che portavano materiale da una parte dall'altra degli stabilimenti, si dovevano fare gincane di tutte le specie. Oggi dove c'è l'iglo di Merz vediamo che c'è un pezzo di Torino irriconoscibile. Come vedremo con il completamento del passante l'intera spina 3 essere ricostruita. La stessa spina 4 che sarà direttamente collegata alla spina 3 avrà, spina 4 mi riferisco a tutta la zona di via Cigna avrà una connotazione completamente diversa. Io ricordo perché è dal gennaio del 62 che sono a Torino, diciamo mezzo secolo e più fa, quali erano gli insediamenti in quelle zone, oggi chiunque può vedere che cosa succede. Allora che cosa si è pensato? Abbiamo elaborato un progetto, ci abbiamo lavorato in circa 7-8 mesi con i gruppi dell'Agenzia della Mobilità Metropolitana, ingegneri e architetti dipendenti dell'Agenzia a 1200 euro, 1300 euro al mese, abbiamo definito il progetto e l'abbiamo sottoposto al giudizio degli operatori. Abbiamo fatto un convegno al mese di novembre del 2007 e abbiamo chiesto a Trenitalia e GTT in primis che sono gli operatori, ma poi all'Unione Industriale, alle organizzazioni sindacali, gli imprenditori, gli usufruitori, cioè i pendolari del servizio, Camera di Commercio, operatori vari, abbiamo chiesto per cortesia noi offriamo questo progetto, dovete dirci che non va bene. Abbiamo fatto la prova al contrario per dimostrare che una città come Torino è in grado anche di avere elaborazioni strategiche, di sottoporle a qualunque tipo di verifica. Abbiamo avuto il conforto della Facoltà di Architettura e di Ingegneria sulla varedità della stessa opera, abbiamo cioè messo in piedi, abbiamo incominciato a costruire la prima impalcatura che utilizzando la realizzazione del passante, ma utilizzando le ferrovie, i binari che c'erano già, disegnava organicamente un nuovo modello di servizio e in questo modo abbiamo disegnato cinque linee. Quattro di queste sono tradizionali e sono riferite alla A1, alla FM1 che è la Rivarolo Chieri, perché fino a ieri, fino ad oggi, non essendoci il passante, ragionavamo con la tratta, il percorso Rivarolo Torino, Torino Chieri. La FM2 che è la Pinerolo Torino e la Torino Valle di Lanzo Cilie Lanzo, la FM3 che oggi è già in atto e in funzione con due modelli di esercizio, cioè quella della Valle Susa, Bardonecchia Torino, Susa Torino, e funziona già con due modelli un orario cadenzato di un treno ogni mezz'ora in ambedue le direzioni, la FM4 che è la Chivasso Carmagnola e la FM5 ultima nata che è la Orbassano Stura, e cioè il vecchio scalo di Orbassano, lo scalo ferroviario di Orbassano che aveva abbandonato i binari, che abbiamo chiesto di utilizzarli e abbiamo inserito questo elemento dentro il passante ferroviario. Però non abbiamo solo fatto un'operazione di tipo trasportistico, cioè queste linee che non saranno più a tratte, ma saranno unitarie. Rivarolo Chieri, Pinerolo Cirie Lanzo, Carmagnola Chivasso e come dicevo poco anzi quella della Valle Susa, che per il momento ambedue vanno a Porta Nuova, non sono più un elemento trasportistico, ma diventano gli assi su cui si disegnano i prossimi modelli di insediamento in un nuovo particolare tipo di modello di sviluppo. Cioè, cosa ci chiedono gli operatori pubblici e privati quando devono fare un investimento e devono avere la certezza che questo investimento abbia dei rientri? Che il posto sia innanzitutto accessibile, che sia comodamente accessibile, che non crei problemi e che questo diventi una garanzia permanente, non sia un fatto estemporaneo, localizzato, temporale. Allora, l'avere utilizzato questo modello di sistema ferroviario metropolitano ha rappresentato anche, così come abbiamo potuto appurare con il coinvolgimento sia della Facoltà di Architettura, cioè Urban Center, che con Torino internazionale, ha rappresentato anche la nuova spina dorsale del nuovo modello di sviluppo di Torino. A nessuno di noi sfugge il fatto che in questi anni il modello della monocultura industriale Fiat è tramontato, ha avuto degli effetti di trascinamento micidiali, durissimi nei confronti della città. La città ha saputo ridisegnare un nuovo modello di sviluppo basato più, non più sulla monocultura, ma su tanti pilastri diversi di questo nuovo modello di sviluppo, all'interno del quale i servizi sono parte importante ed essenziale. Ho voluto fare questo tipo di puntualizzazione, mi rendo conto che alcuni problemi sono un po' complessi, ma spero di essere riusciti a renderli abbastanza semplici, perché per la prima volta abbiamo questo modello che si espande per un raggio di 50 chilometri da Torino, cioè non coinvolge semplicemente la città di Torino, ma coinvolge l'intera area metropolitana, quella che è toccata evidentemente dalla ferrovia, dai binari, e si espande coinvolgendo all'incirca una novantina di comuni, direttamente o indirettamente. Siamo andati in questi anni sulle linee a rappresentare quale sarebbe stato il progetto, abbiamo avuto il coinvolgimento di tutti, indipendentemente dal colore politico delle amministrazioni, stiamo ormai vicino all'obiettivo per iniziare la prima fase sperimentale del sistema ferroviario metropolitano. Il dottor Rossi Pocanzi ci ricordava di come a fine anno avremo la chiusura del passante ferroviario e l'inizio di questo nuovo modello, questo sarà oggettivamente un fatto importante, perché voglio fare qui un esempio per tutti, il percorso che va dalla stazione di Ringotto a Stura potrà essere fatto in 16-17 minuti. Con il treno saremo in grado di attraversare quasi 70% della città di Torino, del territorio torinese in uno spazio di tempo relativamente breve, con alcune particolarità che avremo con questi tre modelli di esercizio, un treno ogni mezz'ora nelle ore di punta nelle varie direzioni, per cui Porta Susa, che diventerà la stazione più importante di Torino, lo è già nei fatti, ma con il completamento di fine anno sarà una delle più belle stazioni d'Europa, ma la stazione più importante perché tutte le tipologie trasportistiche si concentreranno in quel luogo, oltre che i treni ad alta velocità, i treni internazionali, i treni nazionali, i treni locali, ci saranno i treni del sistema ferroviario metropolitano, ci sarà la metropolitana, c'è in superficie tutto il sistema di trasporto che ognuno di voi conosce molto meglio e sul quale stiamo riorganizzando il servizio proprio in questi giorni. Allora questa opportunità farà sì che a Porta Susa ci sarà un treno ogni 10 minuti nelle varie direzioni, sia nella direzione Chivasso, sia nella direzione Bra. Purtroppo non sarà possibile inserire la FM3 per i motivi che dicevo poc'anzi, per quanto riguarda i due modelli di esercizio si attesteranno per la FM3 ancora a Porta Nuova, ci auguriamo che con il completamento di alcune stazioni si possa poi per il futuro inserire anche questi dentro il passante ferroviario e avere così non solo la prima fase embrionale della RER di Parigi, ma avere già una struttura portante di un nuovo modello. Queste sono alcune delle scelte, per essere breve, su cui abbiamo lavorato in questi anni, su cui anche il Partito Democratico ha avuto molta attenzione assieme alle altre forze politiche direi leggermente più tepide, i nostri rappresentanti istituzionali su questi progetti sono sempre stati in prima fila, sanno che le ripercussioni anche per quanto riguarda i modelli di esercizio cambieranno la vita ad alcune realtà territoriali, cioè inserire, dare la possibilità di poter accedere ai benefici e ai servizi di Torino anche a dei comuni, a delle realtà che sono lontanissime in uno spazio di tempo relativamente breve, ha, va da sé, una serie di vantaggi oggettivi. Ho cercato di disegnare in questa prima parte la connessione tra la realizzazione dell'infrastruttura e i possibili vantaggi, sia sul piano trasportistico che sul piano urbanistico, poi successivamente vedremo di entrare più nel merito rispetto alle domande specifiche. Proviamo a immaginare un po' concretamente cosa significa questa novità, proviamo a farlo con Francesco Brizio che è il sindaco di Cirie che non è una città della cintura come possono essere Collegno, Moncalieri che quindi ha già una serie di collegamenti più o meno strutturati, più o meno funzionanti con il capoluogo però, insomma i posti, non dico che Cirie sia un posto di frontiera perché insomma quelli sono molto più lontani, potrebbe essere la Val Pellice piuttosto che le alti valli di Lanzo, però diciamo l'esperienza di un posto come Cirie può farci capire cosa cambia da fine anno, cosa può cambiare per chi vive un po' più lontano dal capoluogo. Grazie, ma devo dire che Nigro ha dato un quadro molto chiaro di quello che è il progetto del sistema ferroviario e ci ha anche spiegato che con il completamento del passante ferroviario una parte di questo progetto diventa ovviamente più concreto. Per quanto riguarda la tratta che in qualche misura più ci interessa o mi interessa come sindaco di Cirie e ovviamente quella FM2, quella che dovrebbe collegare, direi Germagnano sostanzialmente con Pinerolo e poi con quelli che sono un po' le appendici da Pinerolo verso Torre Pesci con i temi che sappiamo anche legati alla situazione del trasporto ferroviario su quella linea, temi recenti di cui però non mi addentro perché su questo sicuramente altri redattori hanno più conoscenze e il tema ovviamente in prospettiva anche del mantenimento della tratta alta della Torino-Ceres, cioè da Germagnano fino a Ceres. Ora è chiaro che per noi il cambiamento centrale è però legato a un altro grosso investimento, credo che questo sia confermato, cioè all'intervento che è quello del cosiddetto interramento della tratta ferroviaria che si trova sulla direttrice di Corso Grosseto, cerco di spiegare un po' meglio per chi conosce meno una parte del nostro territorio, cioè oggi la Torino-Ceres è una ferrovia che parte appunto da Ceres e si attesta ad ora, nella vecchia stazione d'ora del gruppo torino dei trasporti. Questo è oggi il punto di attestamento nella città della ferrovia, ferrovia che è il sito del gruppo torino dei trasporti e che oggi devo dire ha un po' in questo un limite nel suo attestarsi in città in una posizione periferica, marginale, anche se a ridosso di quello che è, come ricordava prima Nigro, una delle grandi spine dell'asse di realizzazione del passante ferroviario. Quello che è previsto e devo dire da quello che sono conoscenze, insomma, sia diventando un dato di realtà, insomma, e questo credo sia un fatto molto rilevante, soprattutto in una fase così difficile come quella attuale, nella quale le risorse sono certamente diverse da quelle disponibili in anni passati che hanno anche consentito questi grandi interventi infrastrutturali. Però la possibilità che oggi, direi, possiamo dire molto concreta, perché le risorse finanziarie ci sono e siamo a ridosso, credo, di un'approvazione da parte del Cipe, di quello che è l'intervento e il finanziamento, che sarà una grande trasformazione anche di Torino, ma che finirà per essere una delle opere più significative dei prossimi anni, è proprio l'interramento della ferrovia Torino Ceres, la quale arrivando più o meno all'altezza oggi di Madonna di Campagna, come sappiamo, sia sotterranea, arriva d'oro su quel vecchio intervento fatto, se non sbaglio, con le risorse dei mondiali di calcio, insomma, all'epoca dei mondiali di calcio in Italia. Devo dire che questo intervento invece sarà molto significativo perché porterà la ferrovia con una direzione diversa sotto la direttrice di Corso Grosseto, consentirà di realizzare una nuova stazione su Corso Grosseto e arriverà a testarsi a Rebaudengo, dove è in fase di completamento la stazione Rebaudengo. Lì è il luogo in cui verrà a interconnettersi col passante ferroviario e quindi farà sì che la ferrovia che oggi, la nostra ferrovia che oggi in qualche modo finisce ad ora, possa essere connessa del sistema ferroviario nel suo insieme, nel passante e quindi possa permettere, credo in modo reale e concreto, la realizzazione della cosiddetta FM2, cioè la possibilità di andare senza rotture di carico da Germagnano fino a Pinerolo, questo passando per su. Questo sicuramente è il tema, quindi la domanda di Rossi posso dire che il cambiamento significativo in qualche modo è connesso a questo investimento, quindi non sarà un cambiamento che si verificherà con immediatezza all'inizio del prossimo anno, ma è legato a questo investimento, che è un investimento concreto, devo dire ormai nelle cose, che quindi richiederà alcuni anni, ma che credo sia un tassello fondamentale di questo intervento. È chiaro che quando questo si realizzerà, renderà per il nostro territorio la possibilità di accedere a Torino un fatto radicalmente diverso e quindi questo ovviamente apre uno scenario molto importante dal punto di vista del rapporto fra la provincia e la nostra area, quantomeno la città e con una serie di connessioni anche che in qualche misura si richiamano al tema della serata, che è anche il tema della città metropolitana, però questo nello sfondo. Quindi per rispondere alla domanda in estrema sintesi, il tema è questo, ci aspettiamo un grande cambiamento perché questo avvenga, abbiamo ancora bisogno di un po' di tempo perché si realizzi concretamente questo grande intervento di trasformazione, di interramento della ferrovia, ma che è anche una grande trasformazione di Madonna di Campania e di quest'area di Torino che arriverà e devo dire segnerà questa fase amministrativa. Grazie. Chi il grande cambiamento l'ha già vissuto qualche anno fa, non per il passante ferroviario, per il sistema ferroviario metropolitano, ma per la metropolitana invece con legno. Forse ci può aiutare a capire cosa queste innovazioni e sistemi di trasporto poi comportano per i cittadini, per il tessuto economico e sociale di una città, quale opportunità creano, magari anche quali problemi creano, se non vengono gestiti nel modo giusto, con le giuste contromisure. E in qualche modo quindi, insomma, con legno poi tra l'altro è una città fortunata perché è l'unica attualmente, città della cintura che è stata raggiunta dalla metropolitana e forse resterà l'unica per un bel po', visti i tempi che corrono. Sì, siamo fortunati ma abbiamo anche messo a disposizione un pezzo di nostro territorio per fare il deposito e non siamo così presuntuosi da pensare che senza questa possibilità avremmo avuto il capolinea della metropolitana. Però, io peraltro ero in Consiglio Comunale 20 anni fa, la città sicuramente ragionò in un dibattito anche aspro, c'era anche allora chi diceva no perché chi dice no c'è sempre e anche allora c'erano quelli che dicevano no alla metropolitana e al deposito, ma invece ci fu una visione lungimirante, una visione di area vasta, una visione appunto non strettamente campanilistica ma di interesse generale e alla fine possiamo dire che ha pagato. E quindi questo credo possa essere anche un po' di esempio, di insegnamento nei ragionamenti, nelle grandi e piccole questioni che abbiamo sul tappeto come amministratori tutti i giorni e anche proprio con il riferimento alla città metropolitana che prima anche Brizio faceva di come il superare il particolare, il superare il piccolo interesse e invece provare a fare un ragionamento più ampio, provare a vedere le prospettive è forse una delle poche chiavi di volta che noi abbiamo di soluzioni per i nostri territori. Allora per rispondere alla domanda sicuramente la metropolitana cambia la vita a un territorio, la cambia i cittadini e la cambia un territorio, Torino, i torinesi e almeno tutti quelli che abitano lungo Corso Francia perché noi oggi abbiamo questo vantaggio ma questo limite, l'hanno verificato così come l'hanno verificato i collegnesi perché raggiungere il centro città, una parte della città in 8 minuti, 10 minuti, 15 minuti, oggi da fermi si arriva agli ospedali, ai grandi ospedali, alle molinette in 23 minuti e è una condizione impareggiabile perché in auto da collegno arrivi alle molinette nelle ore di punta 45 minuti se va bene, un'ora e poi cerchi parcheggio. Ecco, oggi invece lo fai in 23 minuti e quindi certamente c'è un altro tipo di prospettiva perché vuol dire che i cittadini fanno un altro tipo di ragionamento sul come muoversi, sul dove andare a abitare, è chiaro che il nostro è uno dei pochi territori che ha ancora una buona vivacità di tipo edilizio ed è normale e anche i valori degli alloggi vanno di conseguenza e poi vuol dire che appunto maggiore autonomia ai figli per andare a scuola, l'ipotesi davvero di praticare il mezzo pubblico per andare al lavoro e abbandonare l'auto e non soltanto magari volerlo fare ma poi scontrarsi con le difficoltà quotidiane, con i parcheggi, le strisce blu torinesi e così via. Ma magari anche, io dico anche sempre questo, non dimentichiamoci che i trasporti vanno e vengono e in realtà noi abbiamo anche il posizionamento o il rafforzamento di aziende del settore terziario in quei dintorni perché sanno che possono offrire ai loro lavoratori un più facile collegamento con la città. Quindi se uno abita a Torino, abita a Lingotto o se interscambia o potrà interscambiare meglio e questo è il tema anche della seconda linea di metropolitana e di un sistema ferroviario che funzioni, se interscambi puoi arrivare più facilmente e quindi abbiamo anche ovviamente chi da Torino viene a Collegno per lavorare, per svolgere le sue attività quotidiane. Quindi questo è l'aspetto sicuramente ed è prevalente positivo, ci sono due temi o forse uno collegato all'altro, invece di tipo negativo ed è che oggi l'interscambio è a Collegno e questa è un'incompiuta perché il progetto prevede invece il prolungamento a Rivoli della metropolitana, il parcheggio che è stato realizzato è sottodimensionato, abbiamo 350 posti, è intasato, lo sanno tutti quelli che arrivano ma peraltro la città ha provveduto oggi con un nuovo parcheggio di 450 posti, ma insomma quella non è una zona di interscambio perché è una zona ancora molto urbana, è una zona con un misto appunto di residenze e produttivo terziario, non è lampugnano per intenderci chi conosce il parcheggio di Milano. Allora quel parcheggio è sottodimensionato perché forse davvero non si era in grado di immaginare il successo della metropolitana vent'anni fa e poi forse anche per altri motivi ma soprattutto perché si credeva molto al prolungamento. Allora per non rubare ulteriore tempo io dico davvero che questa è incompiuta per noi collegnesi, rivolesi, grugliaschesi ma io credo che debba essere un impegno, un obiettivo di tutto il sistema di nuovo se ragioniamo in un'ottica metropolitana di Torino innanzitutto ma di Moncaglieri dove arriverà con l'ultima tranche in direzione sud la metropolitana si deve completare il percorso quindi la battaglia, l'impegno deve essere quello di portare in direzione ovest più estrema prima Cascinevica e poi Arrivoli la metropolitana. Solo così ci sarà davvero la possibilità di ridurre l'arrivo di automobili in una zona urbana, di interscambiare più lontano. Voglio solo ricordare davvero in conclusione che noi abbiamo anche fatto una battaglia e siamo riusciti a inserire nel progetto di prolungamento l'interscambio con la ferrovia perché il progetto originario di prolungamento non prevedeva l'interscambio a collegno tra ferrovia e metropolitana. Abbiamo deciso che non potevamo essere in qualche modo responsabile di una scelleraggine così grande perché non esiste in tutto il mondo se passa la metropolitana deve poterli vicino a interscambiare con la ferrovia e nel progetto oggi c'è credo che pur in un tempo di scarse risorse, di grande difficoltà se ci sono investimenti che dobbiamo fare, che sono investimenti anticiclici che servono per la crescita sono quelli sul trasporto pubblico. Quindi io dal PD mi aspetto davvero dal sistema, da chi ha ruoli di maggiore responsabilità a chi è nel partito questa battaglia che deve essere una battaglia comune per il prolungamento della metropolitana in direzione ovest. è già stato evocato più di una volta il tema della città metropolitana e poi in effetti costruire un sistema integrato nei trasporti è uno dei primi passi per creare questa gestione comune di una serie di politiche che vanno molto oltre i trasporti. Però una delle persone che più spesso ha posto il problema di concertare politiche metropolitane l'ha fatto a volte anche in maniera non dico polemica ma comunque con qualche richiamo spesso a Torino che a volte è accusata di procedere un po' per conto proprio a strappi e Roberta Meo che è il sindaco di Moncaglieri e insomma a lei chiederei innanzitutto se spera prima o poi di avere anche lei la metropolitana visto che insomma la procedura non sembra molto semplice e soprattutto molto rapida e poi le chiederei appunto cosa significa provare a costruire una politica di area metropolitana cioè cosa deve succedere che tipo di approccio si deve verificare quali quali anche rinunce se così si possono dire ogni territorio deve fare pensando al insomma al bene comune non al proprio ticello e nello specifico sul sistema di trasporti insomma se la soluzione che si sta delineando è una soluzione un buon compromesso un buon sistema se ci sono delle cose che mancano in questo momento beh io devo dire innanzitutto vorrei esplicitare la mia posizione rispetto all'area metropolitana che non è mai stata di stampo polemico tutt'altro ricordo quando durante la campagna elettorale del sindaco Fassino si iniziò a discutere in maniera come dire molto determinata del tema della città metropolitana in quell'occasione io continuavo a promuovere e con me gli altri sindaci di un'area metropolitana che è ben diversa rispetto a quella che viene citata oggi perché oggi parliamo di città metropolitana ed è un contesto ben diverso perché parliamo di 315 comuni che sono quelli della provincia di Torino e non dell'area metropolitana all'epoca il contesto era un po' ridimensionato rispetto a quello che è quasi il confine sostanziale dell'agenzia metropolitana quindi una ventina di comuni più o meno allora il tema che io proponevo all'epoca e che continuo a promuovere oggi è quello di un'ampia condivisione in un momento così difficile e delicato come quello che stiamo vivendo si parla di campanilismi si è citato anche nell'arco di questi primi interventi bene bisogna uscire dal contesto dei campanilismi a ragionare in un contesto metropolitano in un contesto di esigenze di aria vasta che non possono chiudersi all'interno dei singoli confini cittadini e non vi può essere una scelta egemonica da parte dell'uno dell'altro sulla base di dimensione sulla base di diciamo meccanismi più vergati possibili che non voglio neanche esplicitare ma che evidentemente non sono rivolte all'interesse esclusivo della cittadinanza e delle necessità oggettive dei cittadini allora quello che io all'epoca proponevo continuo a promuovere oggi è l'analisi di un tema di aria metropolitana di città metropolitana che possa metterci nelle condizioni di poter esplicitare quelli che sono reali bisogni le reali necessità delle singole città dei singoli confini cittadini in un contesto di integrazione così che davvero le risposte possono essere date insieme per arrivare alle esigenze della cittadinanza uno dei primi temi è chiaramente quello dei trasporti e chiaramente quello dell'ambiente allora qualche settimana fa io ho richiesto tra l'altro di poterci incontrare in un momento nel quale fortunatamente non possiamo preoccupare non dobbiamo preoccuparci di inquinamento da polveri sottili ma è proprio in questo momento nel quale dobbiamo incontrarci per cercare di evitare che il problema poi si ripercuota come invece succede ogni anno a febbraio bene allora preveniamo questo momento critico che ovviamente ogni anno a febbraio marzo emerge preveniamolo ragionando oggi che il problema non c'è cercando di prevenire quelle che sono delle situazioni di inquinamento da polveri sottili ogni anno quando c'è un'emergenza cerchiamo di farlo attraverso le soluzioni drastiche le domeniche pedonali che magari servono poco niente piuttosto che la riduzione o la limitazione nell'utilizzo di auto di certe categorie che in momenti difficili come questo può rappresentare un problema molto significativo per la cittadinanza bene tutte queste limitazioni doverose perché vanno incontro a un rispetto della salute della cittadinanza queste limitazioni non possono essere portate avanti se non c'è un lavoro serio che deve essere invece fatto sul potenziamento dei trasporti oggi stiamo parlando del sistema ferroviario ed è un evidente elemento di potenziamento dei trasporti perché valorizza una rete esistente in un momento di difficoltà economiche stiamo valorizzando le infrastrutture esistenti garantendo un sistema in più di trasporto a Moncaglieri ci sarà un treno ogni quarto d'ora da e verso Torino allora evidentemente una situazione di questo genere dà un servizio aggiuntivo e lo dà a fronte di infrastrutture esistenti che vengono valorizzate se non iniziamo a lavorare in quest'ottica e non iniziamo a farlo in un contesto di condivisione metropolitano di città metropolitana io ritengo estremamente improbabile che si riescano a dare le risposte che oggi dobbiamo dare un ultimo dato poi passo il microfono Moncaglieri per il sistema di trasporto urbano solo quello urbano per dare un dato investe ogni anno 3 milioni di euro solo per il trasporto urbano all'interno del contesto cittadino quindi non parlo del trasporto da Moncaglieri verso Torino verso altre città solo il trasporto esclusivamente locale. Ora con i tagli regionali dei quali sicuramente si parlerà purtroppo nel prosegue del dibattito difficilmente potremmo essere in grado di continuare a garantire dei servizi allora dobbiamo razionalizzare allora dobbiamo cercare di identificare dei meccanismi nuovi alternativi per valorizzare l'esistente per garantire dei servizi e dobbiamo farlo con le risorse che abbiamo a disposizione che sappiamo benissimo saranno sempre meno lo possiamo fare solo mettendoci insieme lavorando davvero in un sistema metropolitano Allora è evidente che capofila di questo sistema non può che essere Torino insomma qui c'è Claudio Rubatti che nella doppia veste di assessore trasporti e assessore all'area metropolitana può spiegarci come Torino intende fare da traino in questo sistema tra l'altro siamo anche alla vigilia di una riorganizzazione interna dei trasporti di Torino da domani entra in vigore un nuovo orario magari ci può anche in breve raccontare qualcosa di questo e insomma deniarci un po' il quadro che riguarda Torino e non solo Torino Grazie intanto ad Andrea anche per aver accolto l'invito di moderare questo dibattito la situazione di Torino è una situazione complessa perché la sfida che abbiamo davanti è una sfida che ci mette davanti la possibilità la condizione l'opportunità in un certo qual caso di riorganizzare di in qualche occasione anche in maniera positiva il servizio che noi offriamo alla cittadinanza per raggiungere l'obiettivo molto ambizioso di mantenere la stessa qualità di servizio a fronte di una diminuzione costante e anche abbastanza importante delle risorse disponibili da parte della regione Piemonte. Allora se noi abbiamo di fronte questa sfida cioè quella di mantenere la stessa qualità di servizio a fronte di minori risorse dobbiamo provare ad interpretare in maniera coraggiosa la situazione data e il servizio ferroviario metropolitano è uno degli strumenti che ci darà la possibilità di vincere questa sfida noi non siamo nelle condizioni intanto, lo dico subito, di non giocare questa sfida lo ha detto bene Andrea, noi domani passiamo alla seconda fase, spero anche l'ultima della riorganizzazione no infatti, su questo ho chiesto alla regione, l'ho detto ad un amico Davide ma l'ho detto soprattutto all'assessore Bonino che ha più responsabilità di lui in questo momento una tregua normativa, cioè dobbiamo fermare le carte in tavole altrimenti i comuni grandi e piccoli e l'agenzia Modena Mobilità non riesce a correre dietro alle modifiche che in questo momento il legislatore, per noi la regione Piemonte ci mette davanti. Noi siamo di fronte a una riorganizzazione del servizio molto importante a dicembre dello scorso anno abbiamo riorganizzato 43 linee per un totale di 1.700.000 km di servizio in meno domani partirà una riorganizzazione dell'orario, quindi senza modifiche ai tragitti che comporterà tra domani e il primo di ottobre una diminuzione di chilometri che si aggira intorno agli 8 milioni di chilometri su un contratto di servizio che cuba qualcosa come 59-60 milioni allora è chiaro che riorganizzare il servizio per 8 milioni di chilometri in meno vuol dire rivedere totalmente la modalità di erogazione allora la città fa la propria parte, l'agenzia con le sue competenze ha fatto in maniera puntuale e precisa la propria parte, l'azienda, la GTT ha fatto la propria parte è chiaro che però dobbiamo chiedere alla regione uno stop delle modifiche delle situazioni che ci sono date perché altrimenti è chiaro che noi continuiamo a rincorrere noi abbiamo fatto questa riorganizzazione già guardando al 2013 quando è prevista una diminuzione del 15% non ci siamo fermati al 9 previsto per il 2012 perché ci siamo resi conto che anche la nostra utenza non era più pronta non era più disponibile ad accogliere nuovi tagli o nuove modifiche poi nel 2013 quindi quello che facciamo oggi, anzi domani, è di fatto la fase finale di un secondo step per noi particolarmente doloroso l'obiettivo è quello, dicevo, di mantenere la stessa qualità di servizio erogato allora cambiano le modalità di orario, nel serale andremo verso un cadenzamento quindi un cambio anche culturale noi siamo abituati al torinese medio che scende di casa quando deve prendere il pullman e se gli va bene il pullman sta arrivando e se gli va male è appena passato ma tanto ne arriva uno abbastanza in fretta nel serale andando ad un cadenzato su moltissime linee anzi su tutte le linee tranne la linea 4 di 30 minuti beh, dovremmo mettere nelle condizioni quella persona di informarsi di quando arriva il pullman esattamente un po' come funziona per chi prende il treno o per chi prende il pullman come me che giro anche un po' la cintura sul mezzo pubblico per le linee extraurbano perché oggi se uno vuole prendere il SAPAV piuttosto che il cavorese si informa su quando arriva la linea, non scende quando capita per aspettare il pullman così bisogna cominciare ad usare il servizio arrivo però al nodo della questione per vincere questa sfida, cioè di mantenere la stessa qualità di servizio con minore risorse da parte della regione noi abbiamo bisogno intanto di grandi infrastrutture da mettere a disposizione io su questo raccolgo ovviamente una grande eredità di amministratori locali che hanno avuto coraggio la giunta a Chiamparino ma anche le giunte prima di quella a Chiamparino hanno immaginato questa grande opera del passante ferroviario per una trasformazione, io la chiamo una rivoluzione vera quando entrerà in servizio il passante ferroviario si rivoluzionerà davvero il trasporto e la mobilità del torinese medio che usa il mezzo pubblico e probabilmente chi l'ha immaginato non immaginava quanto può essere utile oggi il servizio ferroviario metropolitano proprio per le cose che ho appena detto cioè l'utilità marginale del servizio ferroviario metropolitano in una condizione come quella che ho descritto è ancora più alta, cioè serve ancora di più avere una linea così importante e così forte per i trasferimenti all'interno della città per poi mettere a disposizione la rete in superficie verso queste linee forti verso la linea 4 verso la metropolitana ma ovviamente verso anche le fermate del servizio ferroviario metropolitano quindi le grandi infrastrutture il servizio ferroviario metropolitano il coraggio di fare queste riorganizzazioni perché vi assicuro che il primo dicembre nel nostro sessorato è stato un giorno abbastanza lungo e il 12 dicembre cioè domani per noi sarà altrettanto lungo forse un po' più lungo del primo settembre perché riorganizzare una quantità di chilometri così importante ha comunque un impatto sull'utenza molto forte e il ritorno la gente non pensa all'assessore Bonino o al presidente Nigro anche se conosce molto bene il tema ma pensa al sindaco e ai servizi che vengono erogati dal comune di Torino perché poi l'interlocutore diretto del cittadino è il sindaco come sanno bene i sindaci qua presenti l'ultimo ingrediente che bisogna mettere in campo per vincere questa sfida sono le dimensioni e probabilmente il ragionamento della città metropolitana e ragionare come città metropolitana diventa la chiave di svolta vincente per raggiungere questo obiettivo ormai noi abbiamo numeri impressionanti di autovetture che entrano e escono da Torino all'inizio e a fine giornata di fatto di persone che non sentono più la differenza di essere abitante di Moncalieri, di Nicolino piuttosto che di Mirafiori o di Beinasco perché usano Torino, vengono a Torino ne usano i servizi, vengono a lavorare a Torino si fermano magari a Torino tutta la giornata e rientrano a casa nel comune limitrofo ma di fatto usano i mezzi pubblici usano comunque le strade di Torino quindi in questo senso ha una fondamentale importanza il ragionamento come città metropolitana perché le esigenze, i problemi delle città soprattutto penso all'area metropolitana intesa come i comuni della Ciambella cioè i 34, i 43, contatene quante volete ma soprattutto la prima cintura ha ormai una mobilità che è integrata con quella della città allora in quest'ottica anche questo ingrediente cioè quello della dimensione diventa fondamentale per raggiungere l'obiettivo chiudo con questa riflessione noi dobbiamo però immediatamente fare un ragionamento come partito e io ringrazio Matteo Mauri per essere presente perché lui ci fa da riferimento nazionale su queste politiche per avere una proposta seria nella nuovo programma che ci porterà a vincere le prossime elezioni politiche sul tema dei trasporti e della mobilità su questo gli enti locali lo dico a Matteo in maniera pubblica sono a disposizione del partito per dare il proprio contributo e costruire una proposta vincente per un partito che si candida a governare il paese da questo punto di vista le politiche della mobilità rappresenteranno una svolta determinante anche per la scelta dell'elettorato cioè l'elettore che oggi sceglie di utilizzare il mezzo pubblico perché la crisi si è abbattuta anche sui propri conti non usa più il mezzo privato e quindi determina un aumento della domanda dei nostri pullman del 10-15% sceglierà il partito democratico se il partito democratico avrà una proposta seria chiara sul tema del trasporto pubblico locale e sul tema delle risorse a destinazione del trasporto pubblico locale quindi io credo che sia importante per il partito continuare queste riflessioni sul tema del trasporto pubblico continuare questa relazione tra enti locali e partito nazionale affinché i contenuti che loro metteranno nel programma siano figli della nostra esperienza quotidiana declinata come sindaci come assessori come consiglieri regionali ma un combinato disposto di questi elementi affinché l'elettore finale scelga partito democratico non per un posizionamento ideologico ma perché il partito democratico gli fa una proposta seria di risposta a un'esigenza di mobilità che sempre di più guarda al mezzo pubblico come un mezzo essenziale e sempre di meno al mezzo privato perché è troppo caro troppo inquinante tutte cose che ci diciamo quotidianamente quindi chiudo con questa disponibilità e ambizione anche di essere interlocutore prezioso del partito nazionale affinché questa proposta venga costruita immediatamente e il nostro candidato premier possa lanciare e parlare chiaro sui temi della mobilità perché poi la gente comune vive anche di mobilità e quindi intercetta e comprende immediatamente se un partito ha le idee chiare su questi temi o se invece vive di come posso dire di titoli o di proposte ideologiche ma non poi concrete l'ubatti avvocato sia Davide Gariglio che Matteo Mauri io comincerei con l'evocare Davide Gariglio perché ci troviamo di fronte a un controsenso abbiamo dati ormai stabili da un paio di anni che testimoniano un aumento veramente massiccio di utenze dei mezzi pubblici c'è un sacco di gente in più rispetto al passato che usa i mezzi pubblici e parallelamente ci troviamo di fronte a un drastico calo delle risorse che il sistema pubblico mette a disposizione del trasporto la regione Piemonte ne è un esempio assolutamente evidente e insomma Davide Gariglio in regione tutti i giorni si occupa di trasporti e all'opposizione della giunta regionale e da lui vorrei proprio che ci raccontasse cosa sta succedendo a livello regionale quali sono state le scelte che sono state compiute dove ci stanno portando e poi sono le scelte che si ripercuotono su tutti i cittadini quelle che ha raccontato prima Roberta Meo e quelle che ha appena finito di raccontarlo Ubatti grazie Emma guardando in avanti mi viene da pensare che la posizione della regione Piemonte dell'assessorato regionale dei trasporti potrebbe essere rassunto un po' nel motto degli amici di Wedding Time che saluto vorrei ma non posso cioè aspirerei a fare tante cose immaginerei di realizzare uno scenario fantastico ma non ho poi le condizioni per realizzarlo perché dico questo? perché noi abbiamo o meglio la giunta regionale ha presentato vari progetti sulla carta di implementazione del trasporto pubblico locale però sono tutti progetti staccati dalla concreta disponibilità delle risorse la regione Piemonte non è azzeccata una in termini di trasporto pubblico locale negli ultimi due anni ha con due delibere di giunta regionale a marzo e a novembre dello scorso anno ha ridotto le risorse per il trasporto pubblico fino a portarle a una riduzione del 17% sull'esercizio 2013 tutte queste delibere sono state impugnate anche su un po' spinta dalla stessa opposizione sia dai comuni sia dalle province sia dalle aziende e queste impugnative hanno di fatto bloccato l'operatività di queste delibere allora la regione si è finalmente dedicata a percorrere la strada giusta cioè la legge regionale dei trasporti nostra l'1 del 2000 in attuazione del decreto 422 del 97 il decreto burlando stabilisce che la regione debba individuare quali sono i servizi minimi cioè i servizi che la regione ritiene vadano garantiti al cittadino una volta che le ha individuati con propria legge le finanze una volta che le ha finanziati fa un accordo di programma con gli enti locali gli enti locali sulla base di questo accordo di programma ricevono i soldi dalla regione fanno delle gare sulla base di queste gare le imprese svolgono i servizi quindi la regione finalmente ha capito dopo un anno speso in ricorsi che la regione si accinge a perdere l'una dopo l'altra che doveva pianificare i servizi minimi attraverso tutto questo iter e quindi fare un programma regionale triennale dei servizi di trasporto pubblico locale si accinta a farlo ne ha fatto uno poi ha scoperto che le somme che c'erano lì non le sosteneva ne ha fatto un altro quest'altro non è andato alla fine perché gli enti locali l'hanno paralizzato devo anche ringraziare amici come il sindaco di Torre Pellice che si sono attivati su tutto il territorio per far sì che questo piano venisse bloccato dalla mancata intesa degli enti locali e quindi oggi siamo in una situazione in cui non abbiamo un quadro normativo su cui la regione possa possa operare perché gli atti di programmazione non sono stati compiuti qual è il problema vero? che la regione non sta nelle proprie priorità non ha collocato il trasporto pubblico locale la regione Piemonte ha deciso di non far mancare nessuna risorsa alla sanità infatti i conti della sanità continuano ad aumentare nonostante gli annunci anche dell'assessore Monferrino di aver avviato una campagna per la riduzione dei costi ma questo aumentare dei costi sulla sanità fa sì che tutti gli altri settori vengano pregiudicati tra questi quello più pregiudicato è il trasporto pubblico locale perché la regione sta sottraendo ogni anno dei soldi al trasporto pubblico locale ed è la situazione più drammatica che abbiamo 2011 il 2011 si è chiuso con la regione che ha accumulato nei confronti degli enti locali un debito di 270 milioni di euro sul trasporto pubblico locale cioè in altre parole a fine del 31 dicembre dell'anno scorso noi dovevamo dare agli enti locali 270 milioni che non abbiamo dato e questi li devono dare alle loro aziende quindi noi abbiamo sostanzialmente pagato solamente il 65% di quanto dovevamo pagare al 31 dicembre di quest'anno noi accumuleremo un ulteriore debito di 130 milioni cioè noi verseremo in meno il sistema degli enti locali rispetto a quello che loro devono pagare 130 milioni in meno quindi gli enti locali avranno a loro volta un debito nei confronti delle aziende di 130 quindi alla fine di quest'anno ne avremo 400 milioni di debito verso gli enti locali che a loro volta ce l'hanno verso il sistema delle aziende del trasporto pubblico locale questi sono i dati miei dati del partito democratico del gruppo del PD la regione la giunta regionale ne ammette solo 330 probabilmente la verità è a metà di questa forbice ma cambia poco sostanzialmente la regione Piemonte al termine di quest'anno avrà accumulato un debito che sarà per lo meno di 360 a 370 milioni di euro verso il sistema che succede che questi soldi da ultimo avevano detto l'anno scorso hanno detto le ripagheremo nei prossimi tre anni quest'anno dicono non ce la facciamo quest'anno ma la ripagheremo nei prossimi tre anni ma l'anno prossimo per effetto una serie di manovre del governo per una serie anche di effetti sul sistema della sanità sul finanziamento della sanità noi avremo meno quattrini quindi l'anno prossimo noi non saremo in grado di finanziare il servizio del trasporto pubblico locale al 100% delle competenze 2013 e in più avremo da saldare un debito quindi il nostro indebitamento netto aumenterà ancora il che io credo ed è la scommessa che ho fatto con la sessione dei trasporti che al 31 dicembre 2013 noi avremo un indebitamento verso gli enti locali che a loro volta ce l'avranno verso le aziende per un'annualità intera cioè se nel 2014 noi dicessimo diamo agli enti locali i soldi che gli dobbiamo e non facciamo viaggiare nessun autobus nessun treno noi risolveremo il problema è chiaro che questo si basa sul fatto che nel 2014 mandiamo tutti a casa a piedi siccome noi pensiamo che nel 2014 tra l'altro magari le questioni dei ricorsi saranno risolti e qualcuno di noi andrà a governare in regione Piemonte noi questo scenario non vogliamo nemmeno contemplarlo per cui il problema c'è è aperto ed è un problema drammatico credo che debba essere risolto come? è difficile dire mettiamo tutti i soldi che servono perché pragmaticamente ci rendiamo conto che il problema è anche in parte a monte anche in parte in queste manovre della finanza pubblica nazionale che danno meno soldi agli enti locali quindi la carenza di risorse è un qualcosa con cui tutti i governi regionali di qualunque colore dovranno fare i conti quello che noi riteniamo è che però ci debba essere alcuni comportamenti politici un po' più netti in primo luogo la liberalizzazione del trasporto pubblico locale noi l'avevamo avviata con la giunta Bresso la prima cosa che ha fatto la giunta Cota che teoricamente dovrebbe esprimere anche una maggioranza più liberista della nostra è stata quella di revocare le gare hanno revocato le gare hanno completamente sistemato il contenzioso con Trenitalia ricondoscendo Trenitalia parecchie centinaia di milioni di euro rispetto ai contenziosi che avevamo aperto poi si sono resi conto che la cosa non teneva e adesso hanno avviato un processo di gare hanno avviato un processo che dovrebbe portare nel giro di due o tre anni ad avere nuovi bandi di gara sostanzialmente così facendo abbiamo perso quattro anni cinque anni un'intera legislatura la cosa curiosa e che ve la dico qui solo per dire anche un po' sottolineare le problematiche delle persone che ci amministrano è che i bandi di gara della giunta Bresso quelli che Cota diceva essere stati fatti male erano stati fatti con l'aiuto di un'importante società di consulenza del settore che si chiamava Bridge società Ligure ma non andavano bene sono stati revocati adesso ho scoperto l'altro giorno che la giunta regionale decidendo di fare nuovi bandi di gara ha affidato un nuovo incarico di consulenza alla stessa società di consulenza che ha fatto i bandi di gara che ritenevano essere stati fatti male cioè alla fine del percorso noi pagheremo due volte la stessa attività di consulenza comunque questo è un problema dobbiamo fare le gare seconda cosa dobbiamo porci dei problemi perché il contratto che noi abbiamo con Trenitalia fa sì che noi paghiamo circa 15 euro per treno o chilometro cioè ogni chilometro percorso da un treno costa alla mano pubblica circa 15 euro un chilometro di bus esturbano ne costa circa un euro e quattro quindi il treno costa 10 volte di più è necessario questo costo è indispensabile io credo di no l'altro giorno c'è stato un incontro in cui con alcuni sindaci ero presente in Valsesia il direttore generale del comune di Bolzano ci ha spiegato il funzionamento della ferrovia della Balbenosta la Merano Malles quella ferrovia locale che loro hanno avuto il coraggio di riaprire funziona con un costo di esercizio di 8 euro treno a chilometro di cui 6 per l'esercizio e 2 per la remunerazione dell'infrastruttura ecco capite che questo significa il 50% in meno di quello che noi paghiamo il treno in Italia allora io non sono polemico nei confronti di treno in Italia ma c'è un problema nel corso di treno in Italia non possiamo più consentirlo seconda cosa mi permetto di dire e poi chiudo non possiamo più permetterci di avere servizi che si sovrappongono io credo che il servizio ferroviario metropolitano sia la priorità per tutto il Piemonte non solo per Torino Special Agenzia ha fatto un ottimo lavoro e la ringrazio però se abbiamo un servizio ferroviario metropolitano dobbiamo renderci conto che il modo di penetrazione in città dalla seconda e dalla prima cittura di Torino più veloce sarà il treno per cui i comuni che sono toccati dal treno e allora anche le linee di penetrazione in città automobilistiche devono essere ripensate e questo penso non ho ancora visto le scelte che ha fatto l'assessore ma penso sia faccia parte della pianificazione che farà l'assessore a tritrasporti terza cosa la voglio dire noi non possiamo preoccuparci solo dei destini di Torino della prima e della seconda cintura noi siamo un territorio regionale e dobbiamo pianificare a livello regionale il sistema noi non possiamo consentire che le risorse per finanziare il TPL ferroviario su Torino siano prese facendo terra bruciata di tutte le ferrovie locali la scelta dell'assessore Bonino di chiudere quella che definisce Rami Secchi invece che cercare una soluzione sul modello della Val Venosta mi pare folle pensate lo dico perché c'è qua il sindaco di Torrepellice che sulla linea Pinerolo-Torrepellice linea su cui tutte le opere d'arte sono state rifatte linea su cui l'elettrificazione è in funzione insomma una linea perfetta quella linea è stata chiusa anche se noi usiamo un eufemismo dove diciamo il servizio ferroviario è momentaneamente sospeso ecco quella linea è stata chiusa quella linea era ribattuta da quattro linee automobilistiche dopo la chiusura la regione ha messo un servizio automobilistico che la ribatte che fa la quinta linea automobilistica e siccome in certi orari il treno molti orari portava più di 50 persone la linea di servizio integrativo è fatta spesso da due autobus per cui noi sostanzialmente in certe ore abbiamo sei linee automobilistiche che ribattono il percorso del treno allora mi chiedo se questa non è un esempio di ordinaria follia quindi lo dico per il suo territorio ma la stessa potrebbe variare per il servizio sulla Bracca Armagnola per il servizio evocato dal presidente Brizio da Germagnano a Ceres che verrà chiuso anche se non lo dicono per il servizio da Rivaloro a Pontcanavese che verrà chiuso quindi sostanzialmente il nostro problema è fare i conti con soldi che sono sempre di meno lo sappiamo pragmaticamente ce ne rendiamo conto trovare delle soluzioni però equilibrate e se c'è il ferro non ci può essere la gomma e dobbiamo dirlo ai cittadini perché poi a dire la verità essendo stato amministratore legato ai GDD so bene che se gli metti il ferro e gli togli la gomma i cittadini arrivano ti bussano alla porta e ti dicono vabbè la gomma fa 5 fermate per ogni fermata di ferro sono più comodo lasciateci la gomma bisogna fare anche delle scelte perché tutti non le sia contenta dopodiché noi auspichiamo e qua davvero faccio anche io gli auguri all'amico Matteo Mauri che il partito una volta al governo del paese possa trovare delle soluzioni per ridare ossigeno al trasporto pubblico locale perché senza soldi non si fa nulla io ricordo con un certo rimpianto il momento in cui avevo interlocutori prima burlando che dicono che portava male però in realtà la nostra città ha portato bene senza la presenza di burlando noi non avremmo mai avuto i soldi della metropolitana e poi ricordo con Rammari col periodo in cui Bersani era ministro dei trasporti l'altro giorno ero a Caselle il sindaco di Caselle mi ricordava quando abbiamo inaugurato la ferrovia interrata tu c'eri forse Francesco c'era Bersani era venuta l'inaugurazione a un certo punto lo prendiamo da parte gli diciamo guarda siamo a 2 milioni di euro per la copertura abbiamo fatto 30 facciamo 31 lui ci ha detto venite tra due settimane sistemiamo il problema siamo andati ed era sistemato ecco ora non sono più quei tempi di vacche e classe però un'attenzione agli enti locali i problemi dei poveri cristi che amministrano i territori penso questo paese debba tornare a darla grazie a questo punto di questioni sul tavolo ce ne sono molte la domanda è già arrivata più o meno da tutti gli interlocutori io lascio la parola a Matteo Mauri che è responsabile dei trasporti per la segreteria nazionale del PD grazie grazie dell'invito le aspettative sono tante per cui prima dobbiamo vincere le elezioni poi qua non è sufficiente poi bisogna riuscire anche a formare un governo visto che ci stanno facendo una legge elettorale che cerca di impedircelo e poi io credo che ci siano tutte le riflessioni le idee sufficienti per provare a dare delle risposte convincenti e non lo dico perché non siamo in campagna elettorale ma perché ho avuto modo in questi anni di girare molto il territorio una cosa che farò intensificherò anche in questi ultimi mesi prima appunto delle elezioni per rendermi conto di ciò che accadeva e la verità è che quello che è accaduto sul territorio è che l'amministrazione di centro-sinistra le regioni amministrate dal centro-sinistra le realtà comunali e provinciali del centro-sinistra sono quelle che più di altri hanno messo mano a una riforma complessiva del sistema e anche a costo di sacrifici veri ma mettendo in campo scelte anche fortemente innovative sono riuscite più di altre a dare delle risposte che cercassero come si diceva prima in presenza di minore risorse di garantire il più possibile servizio se penso a quello che è fatto per parlare di regioni in Emilia-Romagna o in Toscana tanto per citare due delle più tradizionali di centro-sinistra ci sono fatte delle scelte già preparate magari in precedenza che sono andate nella direzione dell'efficientamento del servizio sono andate nella direzione della definizione di bacini di ambiti in cui svolgere il servizio che erano adeguati e più efficienti hanno ridotto quasi annullato l'effetto di duplicamento del servizio che a volte c'era e c'è ancora molto forte nel nostro paese tra ferro e gomma a volte hanno fatto anche delle scelte dolorose per alcune comunità o in altri casi si sono inventati anche dei sistemi diversi per servirle allora io quando dico centro-sinistra e penso a soluzioni dei problemi di questo paese penso anche a degli esempi molto concreti oltre ad altri che sono quelli che noi stiamo mettendo in campo adesso siamo qui a Torino per cui parliamo della vicenda del passante che purtroppo come sempre in questo paese ha le sue origini molto molto più indietro basta guardare i cronoprogrammi per rendersi conto ma che si è fatto che si sta facendo voi siete una delle pochissime città che a volte aver fatto un bel po' di cose interessanti negli ultimi tanti anni adesso state portando a compimento delle opere anche molto rilevanti dal punto di vista economico e che possono realmente cambiare la faccia della città e la vita dei cittadini soprattutto in giro per il paese questa cosa non c'è o c'è assolutamente pochissimo si cerca in qualche modo di vivacchiare siccome come si diceva prima è finito il periodo delle vacche grasse che è finito da un po' in realtà il periodo adesso chi non ha avuto l'olongimiranza all'ora di impostare un certo tipo di lavoro oggi non ce la fa a farlo comunque non ce la fa come vorrebbe allora qui c'è da dire una cosa quando si parla di trasporto pubblico locale si parla di una cosa che ha un effetto diretto sulla vita quotidiana dei cittadini per capirci sono anche altre cose molto importanti e molto rilevanti ma che magari hanno come dire un effetto differito sulla vita di ogni giorno invece il trasporto pubblico locale insieme a un altro paio di cose non di più che spesso sono competenza anche molto del regione degli enti locali non per forza di carattere nazionale ma sono finanziate a livello nazionale ce li hai lì sulla porta cioè quando esci di casa la mattina ti cambia se c'è o non c'è l'autobus se c'è o non c'è il treno ha un impatto immediato il che vuol dire che dal punto di vista pubblico anche e politico e anche del consenso ci deve essere una grande attenzione molto più di quanto non ce ne sia stata negli ultimi diversi anni ed è devi mettere le aziende le agenzie gli enti locali nella condizione di programmare quello che è successo invece negli ultimi anni è che a volte esercizio in corso penso a quest'anno oppure nelle finanziarie come quello precedente si è tagliato in maniera indiscriminata delle fette molto consistenti cioè stiamo parlando da 2 miliardi di euro a 1 miliardo e 2 capite bene che se uno deve far quadrare il bilancio per la famiglia in queste condizioni problemi le ha stessa cosa vale per gli enti locali non mettendo gli enti locali nella condizione nemmeno di riuscire a programmare anche una risestimazione del servizio e soprattutto non mettendo nelle condizioni chi vuole investire anche imprenditori aziende grandi piccole in questo settore di poter avere delle certezze perché quello che si diceva prima il sacro santo i trasferimenti mancati significano alla fine magari un tratto di penna sui bilanci di provincia e comuni ma significa rischio fallimento per tante aziende di trasporto pubblico che magari non hanno le spalle o i capitali abbastanza grossi per sopravvivere a una cosa a cui non dovrebbero essere sottoposti cioè sei mesi un anno per il pagamento degli arretrati e che sono realtà imprenditoriali vere che vanno in crisi con centinaia migliaia a livello nazionale decine di migliaia di dipendenti che rischiano seriamente il posto perché guardate siccome un autista per capirci incide fino al 50-60% sul costo di esercizio di un mezzo nel momento in cui si tagliano le linee non è che si taglia solamente le linee si taglia i servizi dei cittadini cosa gravissima ma a quel punto l'azienda non può nemmeno più permettersi di mantenere quel dipendente perché per riuscire a tagliare il 10% per dire non deve solo tagliare il 10% delle corse che fa ma anche il 10% dei costi e dentro quel 10% dei costi c'è un pezzo consistente di lavoratori il che vuol dire mettere in serissima difficoltà tante persone tante famiglie tanti cittadini non hanno più servizio e poi c'è un altro punto e cioè attorno al trasporto pubblico locale c'è legato un sistema economico che è molto importante molto pesante molto rilevante e che impatta per esempio anche su tutto l'indotto legato a costruzione manutenzione di mezzi magari italiani e non stranieri che non a caso stanno chiudendo in questo paese le principali aziende che sono rimaste sono lì o fallite o sul loro del fallimento per cui diciamo così attorno al TPL c'è collegata un'economia reale e una vita reale e spesso noi diciamo non bisogna solamente parlare di economia virtuale grande finanza ma poi il punto che bisogna fare ripartire il parere sull'economia reale ecco questo è un pezzo vero di economia reale e di conseguenza quando si tagliano i finanziamenti non è nazionale bisogna sapere che su questo settore guarda in pochissimi anni e pochissimi altri si fa un danno subito che ha una conseguenza per anni ed è anche un danno non facilmente recuperabile e che ha maggior ragione in questa fase impatta sulla vita delle persone perché i dati di cui si parlava prima cioè un 10-15% di aumento di utenti del trasporto pubblico locale sono il segno evidente siccome nel frattempo non c'è stata una trasformazione culturale una rivoluzione culturale ma della crisi economica a Milano dove l'amministrazione ha fatto una scelta coraggiosa e complicata che tra l'altro qualcuno oggi ha messo in discussione con ricorsi adesso dovrebbe ripartire quella dell'area C cioè sostanzialmente la chiusura al centro l'accesso con pedaggio per tutti addirittura residenti compresi dopo un certo numero di accessi quella scelta lì ha poi alzato l'utilizzo dei mezzi pubblici fino a un 30% ma la metà di quello nelle grandi realtà cioè dove c'è comunque un servizio offerto di un certo tipo che soddisfa la clientela c'è stato un aumento di questo genere il che vuol dire da un lato un maggiore introito anche economico da parte delle aziende sicuramente ma dall'altro anche però la necessità di mettere sul piatto un servizio che è più efficiente più mezzi più vagone della metropolitana che magari sono quelli vecchi che sono lì lì che stanno per iniziare a non funzionare o hanno bisogno di più manutenzione di ritirare fuori dai depositi anche mezzi vecchi quando in realtà c'è la necessità di abbassare l'età media in Italia dei mezzi pubblici anche per questione di costi manutenzioni di consumi e di motivi ecologici evidentemente allora se questo è lo schema dentro cui noi ci muoviamo e per cui di un aumento della domanda io credo che noi lì dobbiamo anche dal punto di vista pubblico e anche nazionale come dire approfittare della straordinaria occasione che abbiamo perché se oggi noi siamo in grado di rispondere in modo adeguato all'aumento della domanda io sono convinto che questo poi avrà delle ripercussioni positive anche in futuro cioè se noi oggi dimostriamo alla gente che alla fine della fiera al lavoro e a scuola ci arriva lo stesso meglio e con costi minori rispetto all'utilizzo dell'auto io credo che lì dentro si innesti un pezzo di cambiamento di atteggiamento culturale tra tutti e anche tra le giovani e le generazioni che può avere un effetto positivo però non possiamo perdere questa scommessa cioè tradotta verrebbe così con la benzina a 2 euro con tutte le cose negative che ci possono essere e le conseguenze e i costi e l'assicurazione eccetera la gente vende la macchina non ne compra una nuova e basta vedere il meno 25% di produzione di vendite di auto in Italia sta lì a dimostrarlo e allora noi che abbiamo in testa anche un'idea di città un'idea di vita un'idea di convivenza di un certo tipo dobbiamo approfittare questo vuol dire che non esiste che a giugno del 2012 si dica che verranno tagliate dai 400 700 milioni di soldi per le regioni le province comune e trasporto pubblico locale per dopo poi tra l'altro rimetterli come si fa con i camionisti che poi protestano e glieli rimetti allora io confido in modo un po' cinico che siccome ci sono le elezioni tra sei mesi questa cosa non si riproporrà diciamo in questi mesi che ci separano dalle elezioni ma evidentemente non è sufficiente come argomento allora su questo punto ma non per dire che allora appena non ci sono i soldi su una cosa tu vai su e dici vabbè troveremo i soldi o li metteremo no questa cosa non vale per tutto come per alcune cose è più vera per altre meno vera io credo che questo sia un tema vero ma non perché noi siamo qua a occuparci e allora deve essere importante per forza ma per gli argomenti che ho provato a usare come io credo che la rimodulazione delle risorse da parte delle regioni soprattutto sia una condizione necessaria cioè l'assunzione di responsabilità prima deve star lì dentro perché è chiaro che se tutti gli altri capitoli rimangono invariati alla fine dove scarica è sul trasporto pubblico perché siccome i trasferimenti vanno per più del 70% di fatto sulla sanità nelle regioni l'altra grande voce che c'è su cui si comprime la fine della fiera è il trasporto pubblico questo è un meccanismo che non può funzionare e nessuno si chiama fuori come provavo a dire prima dalle responsabilità e dalla necessità di trovare nuove soluzioni nessuno lo fa guarda ci sono anche degli esempi positivi in regioni che non sono amministrate dal centro-sinistra cioè non ci aveva mica un problema a dirlo bisogna però mettere in fila un po' di soluzioni innovative bisogna mettere in fila un po' di senso logico che spesso e volentieri risolve molti dei problemi e per esempio fare alcune scelte come la vostra questa dell'agenzia che provi a razionalizzare il più possibile il servizio l'altra cosa l'ultima che dico perché altrimenti rischio di andare troppo lungo e mi tengo per dopo se c'è un dopo diciamo non personale è di dibattito sto dicendo è quello della città metropolitana cioè un elemento che io ho colto molto l'intervento che tutti avete fatto è questa visione che è l'unica è lungimirante ma è anche l'unica possibile per gente politicamente sana di mente e cioè nelle grandi città come questa avere una visione di insieme perché chi non ha una visione di insieme vuol dire che non ha capito il mondo in cui sta vivendo e quando si parla di città metropolitana guardate la legge che sta fatta su questa cosa fa acqua a tutte le parti e rischia su alcune parti di essere addirittura controproducente serve una legge su città metropolitana secondo me su questa cosa qua ci deve essere un impegno da parte del PD nazionale a metterci mano dove si identificano 3-4 funzioni vere con le risorse corrispondenti e con le competenze corrispondenti per cui ragioniamo sulle competenze esclusive sul sistema di trasporti delle città metropolitane o di alcune città metropolitane delle risorse conseguenti per esempio e lì dentro si identifica una soluzione allora per esempio le città metropolitane sono quelle che sul TPL ha più senso perché spesso e volentieri le persone semplicemente magari quelle che se ne sono andate dalla città perché costava troppo e sono finite fuori Milano è questo esempio per esempio perché non è che uno va a Cinisello Balsamo adesso forse non lo conoscete ma perché vuole il giardino verde perché non c'è ci va perché costa meno la casa o i figli di quelli che sono in città ci vanno perché costa meno nella casa poi nel corso degli anni sono finite nella seconda cintura ma sono finite in terza cintura tutte persone che gravitano sulla città che si è spopolata vanno lì a lavorare a studiare a divertirsi per cui nelle città metropolitane insomma quelle un po' grosse tutto questo spostamento radiale la mattina e la sera è molto forte in Milano ci sono 700.000 persone che la mattina entrano la sera escono con ore di punta che sono sempre più dilatate allora qua dentro la visione di insieme la visione non cimirante è quella che serve poi io quando sento passante trasporto pubblico o ferro mi si apre il cuore allora abbiamo tempo di fare un secondo giro se le risposte stanno sotto i due minuti così poi permettiamo a loro di giustamente andare a cena quindi farei domande rapidissime per risposte rapidissime comincerei da Roberta Meo l'introduzione del sistema ferroviario metropolitano un treno ogni 15 minuti Moncaglieri ha ancora bisogno di uno metropolitano oppure può andare può bastare così di più certo no la metropolitana ci sarà anzi il lavoro che abbiamo già iniziato a fare dimostra che Moncaglieri e Torino stanno già lavorando abbondantemente da città metropolitana perché comunque il lavoro che è stato impostato e che porterà ad avere entro i prossimi diciamo 3-4 anni il capolina della metropolitana in piazza Benghazi una piazza che è esattamente a metà tra Torino e Moncaglieri e il lavoro che si sta facendo ed è un lavoro enorme come il sindaco ha costato sta molto bene quello di riuscire a lavorare per creare un contesto metropolitano con le modifiche viarie che vi sono durante il cantiere dopo il cantiere con tutte le modifiche che vi sono anche a contorno perché è vero quello che diceva anche il consigliere Gariglio poco fa non bisogna solo ragionare in termini di singole postazioni metropolitane ma anche in termini di modifiche viarie che vi sono nel contorno per cui dobbiamo ragionare lo stiamo già facendo di Rotonda Maroncelli stiamo già facendo i ragionamenti rispetto alle aree di accesso Torino Sud e quindi quelle zone che arrivano e passano da Moncaglieri allora tutti questi ragionamenti che sono ragionamenti di area vasta non sono ragionamenti di confini cittadini sono ragionamenti che stiamo già facendo che dimostra che si può e si deve lavorare nel contesto di città metropolitana lo continueremo a fare anche perché tutta una serie di elementi numerici che sono stati dati mi convincono sempre di più che i ragionamenti di città metropolitana vanno portati avanti anche per una questione di efficientamento economico per cui è chiaro che se voi parlate di 1,50 euro vettura a chilometro e Moncaglieri con un contesto di cintura ben diverso spende 3,40 euro vettura a chilometro probabilmente questo significa che bisogna ragionare in un contesto di area metropolitana creando come stiamo cercando di fare dei contesti di contratto di servizio di area vasta questi sono degli esempi credo di aver già sparato i due minuti ma per dimostrare che questo lo faremo lo stiamo facendo e continueremo a farlo grazie al sindaco di Collegno io invece vorrei chiedere questo sempre a proposito di metropolitana visto che prima insomma richiamava la necessità di concludere quel tracciato mesi fa sono state sollevate prima si era spuntata l'ipotesi di un finanziamento da parte di Attiva e la società che gestisce la tangenziale qualora fosse stata rinnovata la concessione poi si è parlato di project bond la domanda è brevissima ce ne sono soluzioni possibili realistiche oppure oppure no oppure ce ne sono altre bisogna provare ad approfondirle e a capire ricordiamo però una cosa a tutti che forse uno dei primi casi non oso dire l'unico in Italia non lo so ma sicuramente non tra quelli numerosi il prolungamento della metropolitana in direzione rivoli è previsto con un cofinanziamento degli enti locali quindi il 60% di finanziamento statale e il sistema degli enti locali città di Collegno compresa che si è impegnata per 21 milioni e 500 mila euro e rivoli per 10 milioni e così via poi la città di Torino la provincia e la regione si sono impegnati a cofinanziare che cosa ancora più di questi tempi non so se firmeremo oggi quella convenzione quell'accordo di programma ma questo però anche a significare la volontà di farlo allora è chiaro che da un lato c'è l'esigenza come è stato fatto in altri territori con il finanziamento al 100% almeno il 60% di finanziamento nazionale arrivi e c'è un lavoro un lavorio anche progettuale del sistema degli enti locali che sta cercando di trovare forme integrative alternative di finanziamento io dico anche metto anche sul tappeto sulle nuove cose però un tema che non è stato mai molto esplorato quando è stato esplorato mi hanno detto a Milano negli anni 60 ma non ha trovato soluzioni che però la compartecipazione diciamo dei privati a queste grandi opere mi spiego meglio ho detto prima i vantaggi che un'opera come la metropolitana porta al contesto il tema è che la spesa è pubblica i vantaggi sono per molti versi privati aumento di valore delle case e così via è chiaro che su questo ci andrebbe un'impostazione normativa cioè come far partecipare in termini di una volta c'era l'Igvim oggi non c'è più però di incremento di valore chi davvero si giova di questi investimenti pubblici così forti lo lascio lì per la prossima puntata e il prossimo impegno Francesco Brizzi oltre che il sindaco di Ciriè è il presidente di GTT il GTT fra qualche mese sarà investito una novità non indifferente cioè sta per entrare un socio privato a meno questa è l'intenzione del Comune di Torino che acquisirà la maggioranza della società e allora lui chiedo una valutazione su cosa potrebbe cambiare il GTT nel momento in cui il socio pubblico non è più maggioranza ma ha a che fare con un soggetto che ha anche prospettive di mercato non solo di servizio pubblico una piccola correzione in realtà il Comune vende il 49% di GTT quindi mantiene la maggioranza al 51% questo è almeno che oggi Claudio ci dica qualcosa di diverso insomma no no figurati però è chiaro che e come? no però al di là di questo è chiaro che non cambia molto la sostanza la domanda perché in realtà poi direi in qualche modo la vendita è sì del 49% ma in qualche modo la gestione viene collocata sul socio privato quindi nella sostanza la domanda è assolutamente coerente perché pur mantenendo il 51% del capitale è evidente che il governo dell'azienda in qualche modo sarà giocato un ruolo significativo da parte del socio privato poi il comune ha costruito una serie di equilibri corretti insomma da questo punto di vista però questo è il dato ma questo è un tema interessante nel senso che interroga un paio di questioni cioè quello che capiterà e lo misureremo nei prossimi mesi non è di così facile valutazione alcune esperienze in giro per l'Italia non sono state devo dire entusiasmanti da questo punto di vista e quindi non speriamo che non sia vuol dire speriamo che non capita di aver capitato a Genova per fare un esempio quindi ci sono esperienze anche non positive di questo percorso è chiaro che io credo una cosa e la credo fondemente questo credo cioè che anche in questo tempo si è cercato di dimostrare e credo sia stato dimostrato da chi ha governato in questi anni anche in passato ovviamente GTT è quello che comunque si può costruire un'azienda efficiente anche se il capitale è in mano al pubblico questo è un tema su cui bisognerebbe avere anche il coraggio come PD di rivendicare un pochettino di più questi aspetti insomma non è detto che l'efficienza stia solo nel privato l'efficienza sta là quando si costruisce una modalità di gestione che ha dei parametri che sono parametri di rigore di attenzione dopodiché non è che il capitale in mano al privato di per sé è efficiente si può rendere efficiente anche un'azienda pubblica e questo credo sia stato fatto in molti casi e devo dire va rivendicato in qualche misura come una misura scelta politica io credo che oggi l'accessione di GDTA sia scriva più un'erigenza oggettiva di bilancio del Comune di Torino che è un disegno strategico di ampio respiro poi ci saranno anche qualche portato normativo che in parte però mi pare anche un po' superato oggi la questione è quella che è un dato di fatto e che quindi credo che così sarà credo che una delle cose che interroga il Partito Democratico sul piano nazionale e qui la presenza di Mauro è importante è che noi avremmo bisogno di un po' di politica industriale in questo settore quello che non c'è stato non solo in questo settore in questo paese è una politica industriale non ce l'abbiamo neanche nel settore del trasporto ora lo dico qui a passant è evidente che in altri paesi europei come la Germania come la Francia sono costruiti negli anni dei campioni di trasporto pubblico locale nel paese che oggi sono in grado di venire in Italia e di comprarci noi questo non l'abbiamo fatto in Italia come l'abbiamo fatto in altri settori oggi avremmo bisogno da questo punto di vista che il Partito Democratico su questo ragionasse in qualche modo che Firenze è stato venduta noi siamo in cessione per le ragioni che sappiamo c'è un certo ruolo da parte di Trenitalia che però non so quanto sia del tutto coincidente con un disegno più complessivo questo è uno dei temi che noi abbiamo di fronte come politica nazionale quindi c'è un'incognita in questo percorso per arrivare alla tua domanda è un'incognita che si misurerà col tempo che abbiamo di fronte è chiaro che dipenderà anche molto dalla capacità che noi avremo di governare questo processo io credo che oggi la giunta comunale di Torino abbia le competenze per farlo Claudio sta facendo un ottimo lavoro e credo che con lui si possa fare un percorso in cui la città di Torino sia in grado di mantenere un indirizzo dal punto di vista direi di un governo in qualche misura pubblico di un settore così importante io approfitto solo di un secondo per fare una battuta su un tema che anche se non mi hai chiesto ti chiedo la cortesia di concedermi che è quello della città metropolitana solo per dire una cosa se ne è parlato molto e se ne è evocato molto questa sera il tema del trasporto pubblico centra questo argomento e lo vediamo perché il sistema ferroviario metropolitano che è fondamentale è un sistema che guarda al di là dell'area torinese quello che però voglio dire è che ho sentito con piacere le parole di Mauri sul fatto che sul tema ci occorre un ripensamento cioè che il governo ha prodotto oggi non mi entusiasma devo dire di più credo che il PD su questo debba riflettere la città metropolitana la coincidenza a Torino fra la città metropolitana e la provincia di Torino non è una questione banale non si può immaginare che non riesco a partecipare con l'entusiasmo di qualcuno dei nostri amici sul fatto che questo tema sia un tema risolvente io credo che in realtà noi abbiamo il governo ha costruito ma su questo occorre a riflettere un modello che è città lo dice con chiarezza e quindi guarda una dimensione di conurbazione urbana la provincia di Torino ha 315 comuni cioè ha i confini col Gran Paradiso mi sfugge un po' come una città metropolitana possa avere un confine con 4.000 metri di altezza cioè su queste robe qui lo dico banalmente però su questo bisogna che riflettiamo un po' perché il modello che va bene per Milano e tu lo sai bene per noi io credo non vada bene poi io dico non ho ricette in tasca però su questo tema credo che occorrerà approfondire l'argomento ritenere che la soluzione sia stata trovata per Torino e la sua provincia io ritengo che così oggi non sia e quindi su questo tema occorra andare a fondo come ripeto è una sfida però è evidente che Moncagliere e Collegno sono diversi a Cirie ma dietro Cirie e altri contesti territoriali sono profondamente diversi quindi questo credo che richieda una riflessione altrimenti noi andiamo verso la marginalizzazione di una parte significativa del territorio della provincia da un lato e dall'altro lato costruiamo politiche che non sono idone a territori che hanno caratteristiche molto diverse poi ripeto è una complessità questa perché noi abbiamo una configurazione geografica particolare però ripeto la provincia di Torino è un'altra cosa della città metropolitana e leggerla in questo modo oggi mi pare impossibile faccio solo un esempio se non erro la nuova città metropolitana avrà una competenza esclusiva sulla viabilità ora vorrei capire come possiamo immaginare che le vie dei nostri comuni le vie siano governate da un soggetto unico pensate che estensione di rete stradale si può immaginare su un soggetto solo cito un esempio per dire come c'è una complessità che non si può liquidare con facilità perché richiede un di più di sforzo di immaginazione e di riflessione politica perché l'Italia è una realtà interessante complessa e ripeto Napoli e Milano sono diverse dal provincio di Torino questo è un dato con cui non possiamo sfuggire e richiede uno sforzo oggi questo governo ha fatto molte cose ma ci siamo tutti consapevoli che si muove con una certa quale diciamo logica di semplificazione per molte ragioni però non è che questo noi possiamo assumerlo come un dato condivisibile per chi si candida a governare il paese nei prossimi anni grazie scusate però rubatevi telegrafico Giovanni Nigro cosa manca al passante ferroviario per essere completo ci sono alcune lacune mancano oltre oltre ai quattrini allora il completamento delle infrastrutture e la realizzazione di Corso Grosseto così come diceva poco anzi il presidente Mettebrizio Corso Grosseto diventerà il punto di congiunzione tra la stazione Rebaudengo e la stazione di Rigola potrà offrire un servizio anche se sono del Toro allo stadio della Juve a la reggia di Venaria a Caselle e siccome nei modelli di esercizio non c'è solo la FM2 che sarà dentro con un treno ogni mezz'ora ma inseriremo in quello stesso percorso un eventuale altro modello cioè un'altra linea noi avremo nella direzione dello stadio di Venaria di Caselle di un treno ogni quarto d'ora per cui l'importanza della realizzazione di Corso Grosseto è primaria questa è la prima cosa che manca le altre tre cose urgenti che mancano anzi a dire il vero sono quattro la prima di queste è il completamento di stazione d'ora il completamento di stazione zapata l'inizio dei lavori come dicevo Pocanzo dell'attestamento dell'FM5 ad Orbassano e poi una cosa piccola piccola previsto nell'atto aggiuntivo cioè nell'accordo tra governo e regione Piemonte dove erano stati previsti 80 milioni per l'acquisto di materiale rotabile noi abbiamo bisogno per far funzionare il sistema ferroviario metropolitano di mettergli treni perché se abbiamo le belle infrastrutture non abbiamo i treni è come avere una formula 1 e non avere la benzina per farla funzionare ma non a caso noi abbiamo assoluta urgenza necessità e qui utilizzo l'occasione alla presenza di Mauri perché ha detto delle cose importantissime per recuperare tre aspetti il partito democratico credo che debba riprendere sul piano del valore politico del TPL le cose che dicevi la riproposizione di un concetto e della differenza che c'è tra viaggiare e trasportare si fanno viaggiare le persone in mezzi idonei con tempi certi con una certa comodità con una tariffa adeguata con la certezza di avere davvero il viaggio si trasportano con tutto il rispetto le bestie e le merci questa differenza di tipo concettuale tra viaggiare e trasportare è alla base delle scelte che andiamo a fare per quanto concerne il TPL e trasporto pubblico locale contemporaneamente dobbiamo utilizzare le occasioni per fare gli interventi io qui alla nausea e devo dire che l'assessore Rubatti Claudio caro amico ha avuto una pazienza enorme ma da quanto è assessore mi sente dire 12 volte al giorno che abbiamo assoluta necessità di completare gli interventi infrastrutturali dentro il passante ferroviario vi faccio un esempio per tutti quando d'ora dovremmo completarla perché l'accordo tra Trenitalia e il comune di Torino era la consegna rustico della stazione e Torino si impegnava a completarla a renderla funzionale questo tipo di accordo l'avevamo superato coinvolgendo governo e regione Piemonte con l'atto aggiuntivo dei 300 milioni abbiamo perso tre anni che potevamo utilizzare durante i lavori del passante ferroviario per completare la stazione noi creeremo dei disagi enormi ai cittadini quando dovremo completare le stazioni sia a Dora sia a Zapata ma aggiungo di più nella previsione progettuale che la città di Torino ha fatto per l'utilizzo del parco Dora che è a poco più di 200-250 metri dalla fermata Dora dove diventerà uno dei centri più importanti per tutte le attività giovanile quelle musicali quelle ricreative e quant'altro tutti i giovani ragazzi o le persone che arrivano nel raggio di 50 chilometri ma anche quelli che arrivano fuori dal Piemonte possano comodamente arrivarci col treno e in 200 metri arrivano nel posto dove devono andare che è il parco Dora se la fermata non c'è che servizio diamo? Se per quanto riguarda la FM5 l'intervento su San Paolo per la riqualificazione e anche per la realizzazione delle opere compensative dell'insediamento del termo valorizzatore quel tipo di impegno era già pronto noi il progetto l'abbiamo fatto 4 anni fa a costo zero eravamo d'accordo col sindaco di Urbassano che è di centrodestra ma persona squisita abbiamo concordato le modalità di intervento siamo ancora in attesa che qualcuno tiri fuori per fare gli investimenti in quella sede pur avendo previsto 10 milioni nell'atto aggiuntivo è evidente che qui dobbiamo darci una regolata cioè dobbiamo da una parte mettere sul piatto della bilancia il costo delle infrastrutture ma dall'altra parte sapere che ci sono dei costi che non si vedono Torino è attraversata quotidianamente da 350 mila veicoli giorno sarebbero sufficienti 100 mila veicoli ridurli di 100 mila veicoli per avere all'anno per avere un abbattimento di una tonnellata di CO2 è evidente che questo ragionamento semplicissimo comprensibile a tutti ci fa capire una cosa che è vero che ci sono dei costi del fare delle infrastrutture della realizzazione e completamento dei servizi ma ci sono anche dei costi del non fare se non facciamo le cose costa molto di più credo che il partito debba entrare in questo ordine di idee con molta semplicità dicendo dobbiamo fare i conti con la realtà con le difficoltà ma dobbiamo anche usare le circostanze per realizzare le cose che se non facciamo oggi saremo costretti a fare domani con una somma di difficoltà enorme e con dei costi superiori allora proprio per questo motivo ritengo che le cose da fare siano tante evito di dire che l'occasione della realizzazione di Capitor cioè il progetto Cagnardi che ridisegna complessivamente il tutto la variante 200 la variante 200 che ha Rebaudengo rappresenta il punto di congiunzione con l'altra grande infrastruttura che è la linea 2 della metropolitana il comune di Torino ha chiesto il finanziamento per il primo tratto e noi abbiamo anche studiato l'eventuale sfioccamento nella direzione che va verso lo scalo di Vanchiglia e quell'altra che va verso San Mauro abbiamo anche i progetti per la realizzazione di questo è evidente che al di là della carenza di risorse per la realizzazione di queste infrastrutture non c'è ancora la consapevolezza di questo quadro d'assieme allora il DPL Mauri aveva ragione per cui sottoscrivo le cose che poc'anzi dicevi anche sul piano politico noi abbiamo assoluta necessità di mettere al centro il dibattito politico uno dei problemi che tocca la vita tocca la carne viva delle persone perché quando ognuno di noi si trova di fronte a un problema si accorge dell'importanza di quel problema magari qualche volta hanno l'interesse o altro e sappiamo che i prossimi mesi per non dire i prossimi anni ci sarà uno spostamento di modalità trasportistica dal mezzo privato a quello pubblico riduzione delle risorse impossibilità di e tutta una serie di altri motivi che ognuno di voi conosce molto meglio di me se non attrezzate a gestire questo e siamo consapevoli degli interventi da fare beh le difficoltà saranno enormi allora la politica credo che realisticamente debba fare la scala delle priorità individuare i modi e i tempi per intervenire per evitare che poi i problemi ci caschino addosso grazie assessore Lubatti la metropolitana 2 si farà mai o in tempi ragionevoli la linea 2 scusi non la metropolitana 2 no no lo sposto in fretta perché abbiamo la carne sul fuoco solo per questo motivo dato che Nigro è uno molto competente ma non cortissimo negli interventi vi rispondo in maniera molto breve io penso che la linea 2 non solo si farà e sarà determinante anche per costruire questo nuovo scenario di mobilità del quale la città ha assolutamente bisogno noi abbiamo volontariamente sfidato le difficoltà e le criticità economiche che stiamo affrontando confermando gli investimenti sulla linea 1 della metropolitana verso Bengasi e appaltando i lavori e stanno se passate in piazza Bengasi noterete che i lavori ormai sono una realtà l'impresa ha già cominciato lo spostamento di sottoservizi a fine mese verrà spostato il mercato in via Bogliani per dare via al cantiere definitivo e sulla linea 2 della metropolitana noi abbiamo proseguito comunque il percorso dando mandato a Infratò di iniziare a studiare non solo diciamo un'idea di massima del progetto ma andare siamo andati avanti con un mandato preciso a Infratò per ragionare sullo studio di fattibilità e poi andare verso il progetto preliminare tra l'altro studio di fattibilità e progetto preliminare che non è una cosa banale dal punto di vista economico perché fare uno studio di fattibilità e un progetto preliminare per una linea di metropolitana come quello non è una cosa banale abbiamo immaginato anche delle modifiche nel tratto finale nella zona sud della città immaginando una prima parte della messa nell'esercizio del primo tratto per ragionare e poi sul secondo quindi il messaggio che voglio lanciare è la città non si ferma ecco il sindaco lo ripete spesso e ci ha dato mandato di lavorare in quest'ottica io credo che la linea 2 della metropolitana sarà una delle prove e il fatto che abbiamo dato questo mandato a Infratò nella concretizzazione diciamo è la prova del fatto che la città non vuole fermarsi il partito democratico che è presente all'interno di questa maggioranza continua a guardare al futuro tentando di affrontare il quotidiano con tutte le difficoltà che rappresenta ma comunque con lo sguardo guardando al futuro e la mobilità di Torino guarda la linea 2 della metropolitana Mentre facevo la domanda a Lubatti Gariglio mi diceva che lui un'idea sulla linea 2 del metro l'averebbe Sì è un po' provocatore ma io mi sono occupato di linea 2 della metropolitana appena Castellani ci diede l'incarico di partire con la 1 ci disse studiate era ancora Satti studiate la seconda linea allora io non credo sia possibile realizzarla in queste condizioni perché un tempo le linee metropolitane realizzate l'hanno realizzate al 100% con fondi statali quando noi siamo partiti governo Castellani e Prodi e Burlando venisse i trasporti Prodi presidente del consiglio l'abbiamo potuto fare perché il governo aveva lanciato un piano straordinario di grandi infrastrutture cittadine e questo piano finanziava il 60% l'opera quindi noi abbiamo finanziato sostanzialmente l'opera l'abbiamo il miliardo che costato il metro di Torino è stato finanziato il 60% dallo Stato al 30% dal Comune di Torino che in realtà ha fatto fare un mutuo a GTT e ogni volta che il GTT deve pagare una rata di mutuo il Comune di Torino fa un mutuo per pagare la rata di mutuo un sistema un po' complesso il 10% della regione che l'ha messo un po' in modo a spizzichi e bocconi però insomma ci siamo arrivati 60% di fondi pubblici oggi questo quadro non ce l'abbiamo di fronte se avessimo il 60% di risorse pubbliche sarebbe comunque un problema se avessimo il 60% di fondi statali ma non ce l'abbiamo allora io mi chiedo una cosa e lo dico in modo un po' provocatorio ma perché non provare a mettere in discussione altre grandi opere faccio il passo avanti ma faccio una premessa se no mi volete agli occhi io sono un tifoso della TAV non come il mio amico Stefano che è passato da essere un ultras della Juve a essere un ultras della TAV e fa anche i manifesti e gli striscioni non così ma credo che la TAV serva però mi chiedo posto che si è deciso di fare la soluzione low cost cioè di fare la tratta internazionale di poi far viaggiare i treni lungo la Valle di Susa sulla linea storica posto questo perché dobbiamo metterci nella logica ed avere il tunnel di base che ci vuole sotto le montagne al confine poi dobbiamo viaggiare su una linea storica e poi arrivati da Vigliana dobbiamo fare un tunnel sotto la colina morenica di Rivoli per entrare nel passante nell'interporto di Torino semi abbandonato sito dalla parte opposta all'entrata attuale il costo di questa operazione tunnel sotto la colina morenica di Rivoli da 2 a 3 miliardi ecco se noi riuscissimo contattare dallo Stato che ci dà il 50% di risorse con quel 50% di risorse ci faremo abbondantemente una seconda linea metropolitana e potremo far proseguire fino a Rivoli la prima allora guarda a parte che purtroppo queste opere di cui stiamo parlando di questi tempi le vedremo nel prossimo futuro ma io mi chiedo per quale motivo rispetto a una soluzione che non è la TAB completa ma è una TAB low cost e quindi abbiamo un treno ad alta capacità che passa sulla linea storica dobbiamo fare un intervento che rivoluziona tutto il territorio di Rivalta e Collegno e che costa più di 2 miliardi di euro metà di quei soldi risolverebbero il problema della seconda linea metropolitana lo dico perché credo si debba essere pragmatici allora nella vita è importante andare avanti con una logica con una razionalità ma a volte gli ultras finiscono anche di non vedere i difetti della propria squadra io credo che questo discorso potrebbe essere riragionato se questo non capiterà io penso che sarà molto difficile trovare un meccanismo per finanziarla avevamo studiato il meccanismo di Copenaghen che ha fatto una linea metropolitana finanziando la coglione di urbanizzazione di un'area ma non penso che oggi il tessuto urbano di Torino il mercato immobiliare la situazione economica di questa area urbana ci dia la possibilità di recuperare così tante risorse da un progetto di project finance sul territorio tant'è che tutti gli studi fatti finora non hanno portato buon risultato se posso dire l'ultima cosa visto che qua c'è Mauri che è responsabile per il partito dei trasporti e si è parlato di politica del trasporto pubblico politica industriale io mi ricordo che quando stavo in GTT andavo spesso in Emilia c'erano due fabbriche che producevano autobus l'autodromo e la Breda Menarini poi ogni tanto essendo noi i tifosi della Fiat perché ce l'abbiamo qui andavamo a Valle Ufita e se potevamo davamo una mano all'Iveco e davamo ad Avellino tre aziende che producevano autobus oggi non c'è nessuna azienda quando noi metteremo la mano pubblica mettere i soldi per comprare autobus perché alla fine gli autobus come diceva Mauri oggi facciamo viaggiare degli autobus a pezzi ma prima o poi gli autobus andranno comprati con denaro pubblico non avremo più nessuna azienda perché anche l'Iveco ci darà autobus firmati Iveco ma saranno fatti in Francia allora io mi chiedo per quale ragione un mercato che è tutto finanziato da denaro pubblico perché tutti gli autobus urbani e resturbani che girano in Italia sono contribuiti con denaro pubblico nella misura a coscilla dal 50 al 75% a seconda delle regioni tutto il denaro pubblico noi lo dovremmo girare ad aziende straniere e avremo gli autobus MN Mercedes e quelli francesi credo che sia una follia e che sia necessario su questo settore visto che sull'auto ormai non abbiamo più molte speranze per lo meno provare a salvare uno dei produttori nazionali alle sollecitazioni che sono arrivate da quest'ultimo giro chiudiamo con con Matteo Mauri a cui chiederei anche un giudizio molto rapido sull'operato del governo in materia di trasporti del ministro Passera finora ok grazie ma innanzitutto io devo una risposta all'impegno a Lubatti nel senso che prima mi dicevi prova a ragionare su come sostanzialmente fare entrare alcune delle istanze che provengono del territorio dentro il programma nazionale io un po' risposto prima nel merito però volevo assumermi diciamo così l'onere dell'impegno in maniera piena anzi tra l'altro io sto per iniziare una sorta di ci lo siamo inventati io e altri due fenomeni come me il giro d'Italia sui mezzi pubblici no? per cui l'idea è quella di non so quanto ci metteremo ma insomma fare il giro d'Italia magari un pezzo simbolico un pezzo blefo imbroglio faccio con tappe trasferimento il giro d'Italia con i mezzi pubblici spero di arrivare per le elezioni politiche di ritorno e una delle dove l'idea è quella di rendersi conto di persone direttamente anche interloquendo molto con il territorio guardando la realtà direttamente su quali sono i problemi quali sono le soluzioni trovate le idee interessate le buone pratiche come si dice e qual è la realtà allora uno di questi di queste tappe io credo che la dovremo fare sicuramente qua a Torino per cui io da subito mi impegno a fare una tappa qua a Torino a ragionare con voi a partire dall'assessore su diciamo così quale elemento volete mettere in evidenza più di altre delle soluzioni che si sono trovate nel corso degli anni e anche adesso per portare anche all'evidenza pubblica la differenza che tutti dicono ci sono differenze le differenze che ci sono da dove governiamo noi e dove governa qualcun altro sia oggi che soprattutto perché qui la sfida è più complicata e più difficile in prospettiva futura per cui la richiesta è accolta al 100% prendo due o tre spunti la faccio breve prima io premetto io non sono un ultras di niente nel senso che sono un milanese juventino per cui qua già romperò con Giovanni subito che è tolinista ma non ultras per cui mi salvo su questo così si dice tu prima dicevi c'è di questa cosa molto carina della differenza tra viaggiare e trasportare e che io condivido pienamente e siccome io credo che noi dobbiamo riportare dentro la comunicazione dobbiamo riportare dentro l'agenda politica dobbiamo riportarli in televisione la parola pendolari questo è un passaggio culturale perché noi ogni tanto certe cose ce le perdiamo per strada pendolare un pezzo di vita vera di milioni di persone più di 15 milioni di persone ogni giorno si spostano con mezzi pubblici tantissimi mezzi pubblici su gomma tanti i mezzi pubblici inteso come ferrovie treni metropolitani eccetera tanti nelle aree urbane tantissimi verso e da le aree urbane dobbiamo riprendere il termine pendolari e metterci la puntina e metterla lì sulla lavagna della prossima campagna elettorale se vogliamo parlare di robe concrete voi sono per parlare di tutto però in particolare se vogliamo parlare di cose concrete e guardate i pendolari non sono solamente quelli che prendono i mezzi pubblici i pendolari in questo paese sono anche quelli che si prendono la loro macchina ma non perché vogliono far vedere che hanno il 4x4 figo ma perché non hanno alternative perché la mattina o prendono la macchina ne portano i figli a scuola e vanno loro al lavoro oppure ci vanno col calesse allora noi dobbiamo metterci anche culturalmente da quel punto di vista considerare quelli pendolari come gli altri per di più pendolari che in alcune cose sono costretti a spendere ancora di più degli altri e allora trovare delle soluzioni di trasporto pubblico locale con sistemi di fideraggio cioè che metti gli autos che portano collegamenti efficienti con le stazioni dei treni dei metropolitani trovare dei sistemi innovativi che sono gli autos che ha chiamato eccetera significa anche andare incontro a queste esigenze e favorire quel passaggio già naturale che dicevamo dal trasporto privato al trasporto pubblico quando dicevi trasporto merci tu lo dicevi come provocazione rispetto al trasporto però io dico solo per inciso poi ci facciamo un'altra festa dell'unità in questo paese il trasporto merci è una delle cose più disastrose che ci sia perché viaggia per oltre il 90% su gomma e per meno del 10% su ferro e questo succede non solo perché diciamo così è volontà divina succede un po' per la morfologia del territorio e per il nostro tipo di sistema produttivo molto parcializzato sul territorio per cui un pezzo è così e rimarrà sempre così e non riusciremo a ridurlo sotto una certa soglia perché non abbiamo grandi centri produttivi industriali localizzati in aree ben definite e non abbiamo un sistema produttivo come quello che so tedesco sulla chimica sull'acciaio per cui sul ferro vanno alcune cose non ne vanno altre ma potremmo fare molto più di così perché non succede perché qualcuno sta facendo delle scelte consapevoli ma sbagliate in particolare FS che sta dismettendo completamente trasporto pubblico il trasporto merci su ferro e sta impedendo agli altri di entrare per offrire un pezzo di quel servizio questa cosa è una cosa che ha un impatto diretto sulla vita quotidiana di noi chiaro perché poi quando su le strade extraurbane anche urbane ci sono tutti quei carichi di cui parliamo sui tir è evidente che in termini ambientali e di vita quotidiana lì c'è un problema perché lo dico non per parlare d'altro anche se questo è un tema che guardate che conta molto più in vostra vita di molti altri ma perché penso al ruolo del pubblico inteso in questo caso nazionale dentro le scelte allora io ho parlato male di FS per quanto riguarda trasporto merci dopodiché però riprendiamo quel pezzo del ragionamento che si faceva prima sul ruolo che sta svolgendo e ha svolto Trenitalia sul trasporto pubblico locale se ha avuto degli effetti positivi o ha avuto degli effetti negativi se funziona il fatto che un'azienda per un giorno si comporti da monopolista pubblico e dall'altro quando gli fa comodo invece dice che non lo è più e si comporta da privato magari nei confronti delle regioni perché guardate che il tentativo che si è fatto che si farà brevissimi in Emilia Romagna e che si è fatto a suo tempo con Borrioli e con il presidente Bresso qua sono due tentativi molto coraggiosi e molto avanzati e Borrioli è una persona seria intelligente e capace che andavano nella direzione giusta soprattutto sul ferro e che sono stati scientificamente boicottati scientificamente boicottati e che avrebbero dato con tutti i rischi del caso ci mancherebbe stiamo un po' sperimentando cose che all'estero ci sono tantissimo tempo in buona parte funzionano un certo tipo di gara un certo tipo di liberalizzazione e non un'altra sono mondi anche molto diversi ma fatte bene funzionano e che è stato un danno per i cittadini perché non è vero che non è possibile garantire un servizio equivalente a prezzi inferiori o un servizio superiore a prezzi equivalenti è possibile farlo è possibile farlo o con capitali imprenditori italiani o io dico è possibile farlo anche con capitali imprenditori stranieri poi una nostra responsabilità quando parliamo di politica industriale il fatto di non aver sviluppato o mantenuto dei presidi molto importanti industriali di servizi che invece avevamo nel passato perché a me è chiaro che se viene Debe che sono i tedeschi sostanzialmente e i francesi una parte di quelle aziende lì sono aziende statali sostanzialmente più o meno finanziate e sostenute dopodiché noi dobbiamo essere nelle condizioni anche di fornire il servizio migliore possibile per cui laddove è possibile favorire la filiera produttiva italiana farlo non dismettere e andare in quella direzione dall'altro però anche l'esigenza a maggior ragione in presenza di scarsità di risorse di garantire il servizio e adesso chiudo perché siamo andati veramente molto in là però volevo dire una cosa al volo su lavori finanziamenti di grande opere e anche una cosa su città metropolitana allora guardate io ho visto con sfavore alcune scelte tipo quella di togliere finanziamenti a mezzo anno poi ridati come dicevo prima da parte del governo sul trasporto pubblico locale ho visto e vedo con favore da vedere bene nello specifico l'ipotesi di fiscalizzare le grandi opere laddove però c'è una scelta chiara e condivisa di quali sono le grandi opere perché questo paese ha bisogno di alcune poche grandi opere e di tante tantissime medie piccole opere facilmente cantierabili facilmente realizzabili più sostenibili economicamente che spesso e volentieri con investimenti ridotti che hanno anche il vantaggio di andare subito a regime per cui di avere un effetto anticiclico producono lavoro ovvero in tempi rapidi sostanzialmente di sbloccare interi sistemi economici con insomma un impiego relativo di risorse guardate penso a tante cose ne faccio solamente due esempi gli interporti se ne parla se ne parla ma poi su questo non si investe e il sistema della portualità italiana che è lì bloccato compresso e che spesso e volentieri ha bisogno di un binario in più o guardate investimenti tecnologici tecnologici per sbloccare veramente interi sistemi cioè a volte per far passare l'alta capacità è sostanzialmente a differenza dell'alta velocità la capacità di far viaggiare più treni a distanza minore e di conseguenza riempire le tracce in maniera più efficiente allora per fare quello a volte non è necessario mettere i binari nuovi o ridipingere i treni è necessario fare degli investimenti tecnologici che con una spesa relativa ti garantiscono un servizio migliore penso poi devi sempre comparti i treni quelli che il governo Prodi si era impegnato a comprare stava comprando quando poi qualcuno ricordo fece cadere quel governo tutto questo tutto questo e chiudo dentro un sistema di diciamo così ridisegno io le vedo molto collegate le cose anche istituzionale io penso che ci debba essere garanzia dei finanziamenti certezza dei tempi certezza dei pagamenti delle aziende da parte della pubblica amministrazione oggi siamo di fronte anche a un ridisegno del sistema istituzionale le province per capirci che in realtà su cui ognuno può avere tutti i dubbi che vuole però c'è è lì e c'è anche quello delle città metropolitane il giudizio è più negativo su come lo stanno configurando però c'è è un'opportunità quella allora per esempio è vero che Milano e Napoli sono molto simili diciamo con un vulcano in meno ma sono molto simili e Torino è molto diverso rispetto a Milano ad altre perché è diversa la storia la conurbazione eccetera allora uno intelligente è duttile uno stupido è rigido allora è evidente che per esempio nel momento in cui si ridisegnano le province dare grande libertà a livelli regionali cal come si chiamano per definirle senza rigidità e schematismi che non puoi accorpare mezza provincia ma devi farla intera o devi portare fuori i comuni o la città metropolitana deve coincidere con la provincia no si dà la possibilità di giocare con la massima flessibilità possibile e di disegnare le città metropolitane anche seguendo quei criteri che hanno definito attorno alle esigenze vere che non sono mai di confini ma sono molto morfologiche piuttosto che soprattutto di fornitura di servizi dentro questo schema qua io credo che servirebbe rivedere quella quella legge renderla da subito più duttile e dare grande autonomia ai livelli locali per disegnare le città metropolitane in funzione delle proprie esigenze poi io sono convinto che in questo paese non ci siano 10 o 11 città metropolitane e che sia la solita roba l'italiana credo che ce ne siano molto meno però laddove si può giocare in maniera efficiente questa cosa sull'acqua sull'ambiente sul sistema dei rifiuti e sul trasporto pubblico questo si possa fare però voglio dire la storia antica e recente di questa città e della vostra amministrazione nostra di centro-sinistra dimostra che quale cose come ho detto prima all'inizio lo ripeto si fanno e si fanno anche nel momento in cui tutti gli altri sono fermi poi ci avete rubati se siete a posto grazie mille e buonasera a tutti grazie